Facciamo lo spam 3, 2, 1 Ah no, ancora lo devo preparare 3, 2, è caduto No, diciamo 3, 2, 1 Ah, ora si Questa è la powerline No, ancora non l'ho attaccato, solo d'iPhone Che stavo accendendo il computer Però volevo esserci In the meantime Che sono tutti questi inglesismi La Millennial La Millennial C'abbiamo una lingua tanto bella Che i nostri nonni hanno combattuto Ma perché che ho detto Oltre a MinTime Che ho detto E devi dire pure altro Non basta dire il nostro Eloquio 3, 2, 1, spam La nostra Bellissima lingua Il quanto sangue Che è stato versato Ok, 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 ok Ok, ok Microponino Ma è forza 9 3, 2, 1 Pam 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 Dove sta Stefano 3, 2, 1 3, 2, 1 Via Pam Pam Sì ma Pam Siamo online? Sì Ciao Twitch Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao Pancadì Ciao BeautifulMax 84 84 84 sono gli anni Eh sì E noi abbiamo questo pubblico così Un po' Aceto Aceto Ho detto aceto Ho massacrato la nostra bellissima lingua Ah ma stai per caso facendo age shaming Un pubblico un po' anziano di merda Cos'è questo Vambrace Ok Qua ci abbiamo una scaletta Dove sta? Chiudiamo un po' di Allora Questo possiamo chiudere Questo possiamo chiudere Questo possiamo chiudere Arisa senza vedi su Instagram Basta vergogne e interrogativi Interrogativi di che? Eh Magari lo metto o non lo metto? Ah ok Dove ho i dubbi che ti vengono? È lui o non è lui? Certo 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 Ecco Volevo stare zitto Esatto Però È irresistibile È irresistibile No no Ragazzi Ma signore Signore Meglio o peggio O assolutamente uguale? Un po' basso Rispetto a Rispetto al solito Allora Mi dovrei ricordare Come è il solito Tu Esatto Mattia c'è poi? Si è rotto un piettino del pc No Ma si possono comprare da qualche parte? C'è un negozio di piedi Un negozio di piettini per pc C'è? Ma ci metti un libro della Meloni sotto? Benissimo La misteriosa app di shopping Che ha battuto Amazon Immagino che Poparazzi e Shane Sono l'app di shopping social De momento Chissà se fa più ordini Amazon O tipo Aliexpress O Wish Non è Aliexpress Dici? Interessante Sarebbe Saperlo Si ha confermato Che paccava L'ospite Segreto Sì E a me ha detto Che stava in treno In treno Ok Esatto L'ha detto anche a me E' quello che dice a tutte Ehi Fatti Se tu dice Allora vieni Ah sta In festazione Una stazione di Bologna Si fa proprio i rumori Ciu 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 Ah Vi dico Max Mi sono segnato Tutti i post Su A voi Che cicciona grassa Brutta Non ve ne parlerò Ti dirò di che cosa si parla stasera Bravo bravo Poi c'è da recuperare Mirko Che Due puntate fa E' stato interrotto Mentre parla Dello stile grafico Di Iman E' in chat Oh Che ti interrotti Maestro Facciamo parla A tre ore Così Soprattutto Aloy Ma che è questo Aloy è una cicciona Che roba Perché Nel trailer Di Horizon C'è un frontale Con delle proporzioni Un po' Si Non è una cicciona C'ha la capa grossa Sai che sembra Sai che sembra C'è presente Un po' di build In America Il protagonista Di Big Ben Teori Però è femminile Beh no Va bene Effetto Hai ragione Hai ragione Mettiamo subito Mettiamo subito Che c'hanno un po' Il maschio Finalmente Mettiamo subito David Di Donatello Col pisello Proprio Te lo stanno spingendo In bocca Con sto zoom Ecco Per un attimo Pensavo Emevo Eccolo là Niente Qua ci c'è Sulla Twitch Affanculo Bdpp Mi dispiace Mircott Ma io non Non ci ho pensato Comunque io ho detto Le bodybuilder Quindi tu devi mettere Le bodybuilder No mo' vediamo La spesa del bodybuilder Con Andrea Presti Tiè E' un bodybuilder Che va a fare la spesa Guarda C'ha pure la Come si chiama La Il marsupio Ma è così grosso Che se la mette a tracolla Un borselletto Quello è Un borsello Ma i borselli Erano più quadrati Vabbè C'è un borsello Igenizzo le tue mani Che è così potente Che adesso Con un tocco Farò squirtare tutto Guarda Esplode Ma pensa se incontri uno Cioè io se incontrassi uno Così Mentre faccio la spesa Mi fai toccare il bicipite Mi incuriosirei Cioè Ciao Domi Ciao Domi Parlavamo di te Fai bene Fai bene Sempre male Mi raccomando Ma troppo grosso Dei bicipiti Eh vedi Parla di te Guarda A confronto del signore A sinistra Guarda Guarda la spesa Delle proteine Tutta carne Tutto pollo Però Non le bistecche Ebbè Quanto cazzo Se ne prende Ma te credo Ma questo se ne mangerà Due Ma ci sono quello Sì esatto Bene Fai prima A prenderti il pollo Intero Scusi Sì Prima fa una fattoria Se prendi 20 cose di carne Le stesse cose di aloe Ah ecco E ora si prendi il resto Mazzate che brazzone Quello è quello Che lasciava Adesso Ma quanto Quanta famiglia C'ha a casa Ebbè Non vedi Siamo parta dietro Ma vedi Ma vada Fa bene Mangiare 4 kg Ecco adesso Di hamburger Al giorno Al giorno Sì Come è giusto L'ottima carne rossa Che mangierò Ma questo che sarà La cop Cruda però Ah ma Macelleria in Italia Sì sì È in italiano Sì sì Questo è Andrea Presti Che va a fare la spesa Penso quanto spende Madonna No ma questi C'hanno i sponsor Eh sì Comunque deve pagare C'hanno sponsor Amadori Mi sa che è lo sponsor I polli crudi Con le peli Il nemico numero uno Dei polli mondiali Stavo pensando Allo stesso Ho detto Al tribunale Dei polli Lo Condanneranno Per perdere Ah vedi Adesso anche Come cazzo si chiama Sto Sto Robo Sicuramente Questa roba Tu Eh bravo Così te lo difende In tribuna Il tribunale Dei polli Esatto È grasso L'avocado Perché È però È grasso buono Sono insaturi È bassissimo È bassissimo È bassissimo Ha dei begli occhi Però sto tizio Se non fosse Malformatato Di tutti questi Bei discorsi È innamorato È un po' malformato Sotto Ma Cioè Sembra un po' Storfi Però Gli occhi sono bene Di glielo in faccia Che aspetta Il piede No no Io chiaramente È la fine del polio Secondo me È appunto Sì pronto Noi siamo pronti Siamo pronti Ecco Facciamo una puntata su questo Però parliamone in puntata Tutte queste cose Sì ok 3 2 1 Caramie Amici La sigla La sigla Aspetta L'emozione Adesso i capelli Stanno crescendo Sotto il mento Sì E si sono sbagliati Perché mi sa Che nel sonno Qualcuno Mi ha ribaltato La testa E quindi Adesso sono costruita Sotto Il sottoposto Del sopra Infatti prima La bocca Ce l'avevo qua Sigla Marco Attenzione Il basilit Ci va da sopra 3 2 1 Buonasera Buonasera a tutti Cari amiche Cari amici Buonasera Benvenuti A free playing Il podcast Delle chiacchie di libertà Su videogiochi Sui intorni Io sono Bruno Barbera Con me c'è Simone Ciao Fabio Ciao Inoltre Un secondo che mi apro Ah no sta già aperto Matteo Ciao Ciao E Alessio Ciao Bruno Mirko The Master Ciao ragazzi Ciao a tutti Stefano The Biggio Un saluto Bellissimo Bellissimo Sono innamorato Dei suoi occhi Ora Ci abbiamo ragazze In chat Ludo Ci dai un giudizio Ciao Carlo Ciao Carlo Ci dai un giudizio Su Come uomo Questo Perché io vorrei sapere Un parere maschile Da Ludo Ma questo sta Cioè in Italia Sta questo Sì Andrea Presti Che va a fare La spesa Si chiama Andrea Presti Invidiamolo Sta di ballociana La sma Uno gli dà La costanza Di stifastolo No ma Sì La Coca Cola Sì sì Si prende Due casse di Coca Cola Per lui sono come due lattini Si prende La coca cola Ragazzi Le attivate su Col mignolo Cioè hanno pure Il mignolo Le notizie Cioè lui Prende la cassa Le sei bottiglie Va Se la springe Comunque anche una spesa Notevole Ma lui c'ha gli sponsor C'ha Francesco Amadori Perché prima all'inizio Si è comprato Tipo 20 kg di pollo Ha preso 20 Robi di pollo La coca cola Per sciogliere Gli steroidi Nè sangue Che poi Quella non è coca cola Sapete sì È vero È vero Che dicono Che c'è quella storia lì Sì sì Però onestamente Io devo dire Che quando andavo a fare la spesa Forse un po' di meno Le quantità Però più o meno La spesa era uguale Quella che facevo pure io Beh allora Io dico Che se lui comunque Ha sto fisico qui Sa quello che sta comprando Quindi Diciamo che probabilmente Guarda che vene Che c'ha su bici Eh appunto Dico probabilmente C'ha una vena sua del bicipite Più grossa del mio braccio Dico Esatto Ha il braccio Che è come la mia gamba Sì sì In chat dicono Penso che questi personaggi Tirino più noi maschietti Che le femmino Ma è vero Cioè perché noi vogliamo essere così La curiosità maschietta E sai perché vogliamo essere così? Perché siamo cresciuti con I men Vero? Vero Mirko? Eh Però scusate Prima che Mirko parla Quindi non lo interrompo neanche Ludo Charlie dice Sassolo anticipare Giudizio No Orrore Orrore Gli salvo Solo la mascherina Truzza Sì perché c'è la mascherina Con la ragnatela Più la fiamma sopra Con le fiamme È un po' Spider-Man Un po' Torcio umano Bruno pensa al case del PC Di sto ragazzo Sarà bellissimo È pompato come lui Attenzione Attenzione che sta nel reparto carboidrati Eh 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 Non andare in tentazione Non andare in tentazione Finta di non conoscerli Sì sì Sta facendo finta di niente L'Emiliana 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 Esatto Tanti all'uovo L'Emiliana Allora questo forse sta raccontando Di quanto lui si Si tenti da solo Capito? Si allena Guarda che belli occhi Ha gli occhi buoni Ma beh È un gigante buono Non mica devono essere tutti Ma è cresciuto nell'ambiente sbagliato Ma guarda Ma che ambiente sbagliato? Ma guarda Perché lo disegnano così Guarda ste che quelli peggio Sono quelli magrolini Tutti nervosi Invece quelli grossi Sono buoni Ma Alessio Esatto Alessio è un altro magrolino Attenzione però Sta facendo marcia indietro Forse perché ci ha ripensato Sui taglioli Sui taglioli L'Emiliano Niente No Adesso ammirare il signore Signore Le si deve spasare Ahia Attenzione Ecco sta prendendo Quei 40-50 kg Di pasta biorgi Eh no Ma con quelli integrali Ho preso 3 kg e mezzo Di pasta Eh sì Eh mi voglio fare Mi voglio fare uno spuntino Sì Vabbè Guarda c'era la signora Che si è spostata Nel terrore proprio Tassi Tassi Scusi No dicevo A noi Piace A mostro il braccio Si è spostata Si si con lo spostamento Dell'aria proprio L'ha spostata Tipo Hulk Quando batte le mani E trema l'aria Sì esattamente Allora Dicevamo Ci piacciono Perché Siamo cresciuti Con i men Perché dico i men Perché Due puntate fa Abbiamo parlato Di i men Per chi se lo ricorda E Mirko Stava cominciando A parlare Dello stile grafico Di quegli anni Solo che Noi l'abbiamo interrotto In chat Subito Su telegram Venite sul canale Telegram Di filetta Telegram Punto Freeplane Punto It Bruno 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 Anche molte Femmine Sono cresciute Con Li men Ok E Ok No ma molte Guarda Quelle che conosco io L'hanno visto giusto Di sfuggire Ecco qua No Chiusa lì Chiusa lì Niente E E quindi E quindi Di freeplane E quindi niente In chat Su telegram Ci hanno rimproverato Che non abbiamo fatto parlare Mirko Di E-Man Quindi Mirko Ci vuoi dire qualcosa Sullo stile grafico Di E-Man No Adesso ho perso il filo Stasera dobbiamo parlare Di altri personaggi Ho perso il filo Sono passati tre mesi Sì appunto Come faccio a ricordare Vabbè ragazzi Scusa Vi cominciano a dire Di E-Man In quegli anni E-Man Lo stile grafico Di E-Man Puntini Puntini Allora Era quello Che andava Della filmation Che in quel momento Si staccava Che erano Allora Filmation Era una società Che se non mi sbaglio Nasce intorno I anni 60 Forse in America E addirittura I primi prodotti Erano roba Della chiesa Portodono Anglicana Non mi ricordo Comunque c'erano Preti E robe religiose Dietro Protestante Forse No Quello che stacca È che Prima di Di quel tipo Di approccio Animazione C'era quello Dei cartoni Della domenica Americani Quindi cioè Quelli molto più Warner Bros Stile sintetico Eccetera E invece Con quella serie lì Si è un pochino Aperto Il mercato Americano A questo Che era uno stile Completamente Differente Per cui Anche lì In dato beccava Tutta una fetta Di pubblico Molto più adulta Perché effettivamente Cioè il cartone Puro americano È quello D'Anna e Barbera No Proprio semplice Ultra Ultra Cartoon Queste cose qui Sono arrivate poi In quegli anni Quei C'erano i Mandy G.A. Joe Poi è seguita anche Tutta quella fila Un pelo più realistica Che secondo me È molto più bella Che era I Thundercats Silver Rock C'era anche I sceriffi Della galassia Se non mi sbaglio Per cui Sceriffi delle stelle Sceriffi delle stelle Sì c'è ragione E No Quindi Insomma Alla fine Secondo me Perché l'altra volta Si parlava Se mi ricordo bene Che era terribile Il fatto dell'animazione Di come si muovevano Era un'animazione Fatta al risparmio Con dei mezzi Anche abbastanza Abbastanza poveri Sì Thundercats C'ha ragione Jerry Era animato in Giappone Cioè era proprio La seconda ondata In cui c'erano Produzioni americane Però già c'era Il delegare Insomma Tutta quella parte Occidentale Dell'animazione Cioè non venivano fatte Le intercalazioni Ma veniva già delegato Parecchia roba In Oriente Però A me Non è mai piaciuto Dico la verità E secondo me Quel discorso Che stai facendo Te Bruno Non so Quanto sia Effettivamente Che discorso ha fatto No Quello che Rivedendoci Certi tipi di eroi I ragazzini Li ricompravano Perché È vero che Era una cosa Degli anni 80 Per cui comunque C'era sicuramente Tutto quel C'è anche la leggenda Che vuole Che Iman Nasce Come Costola Di Conan Cioè per cercare Di fare una sorta Di giochi Di Conan Ma non Non è mai Non è mai stata Confermata Effettivamente Sta cosa Però Probabilmente Si l'immaginario In quel momento Era quello Dei maschioni Grossi Pompati E carichissimi Poi tra l'altro Visto che sti giorni Hanno pure annunciato Il supereroe Iron Dome Che Supereroe israeliano Che prende spunto Dal sistema Missilistico Di difesa Ma veramente Si 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 Ed è sempre gonfio Gompissimo Grossissimo Con la stella De David Nel petto Per cui Voglio dire Non credo Che sia poi Cambiato Tanto Se dovessimo Se dovessimo Basarci su sta cosa Non credo Che sia Manco Contro Dei nemici Armati Di bastoni E pietre Armati Dash Sì No E vabbè Lasciamolo stare Eccolo Vedi Lasciamolo stare Non ho capito Perché proprio Lo stavo leggendo Poco prima La puntata Da dove nasce Cioè Chi è Da dove Insomma Che dove lo troviamo Le mirabolanti storie Di Iron Dome Però Vediamo un po' Insomma Vediamo un po' Supereroe Muscoloso Fumettista Yehuda De Vir Quindi Un israeliano Che l'ha fatto Eh però Non ci sono nomi È tutto un po' Un po' Sì Chi è la casa editrice Più che altro Sarai curioso Non si sa Non si sa niente Per cui Va bene Allora Detto ciò Sperando che Questa riflessione Di Mirko Vi sia piaciuta Ne approfitto Per ricordarvi Che adesso Mirko Ha le live Del giovedì Con cui vuole fare Concorrenza A Free Plank Vero Mirko? Dove le fai Queste live? Facciamo un po' Di Il giovedì Sul mio Canale Instagram Il canale Sul mio Profilo Profilo Instagram Parliamo Di disegno Ma disegno Sempre in maniera Molto larga E con Ospiti Ospite Ospito Ospitiamo tutti Chi vuole E vienes Parla Cioè c'avete pure le femmine Qua su Free Plank Ultima puntata Con due Disegnatrici Mirko Disegna Veni Magari No no Lo trovate Sulla parte IGTV Del mio Profilo Instagram Ok E inoltre Ricordiamo anche Visto che siamo Qua mi sono fatto Proprio la cosa Pubblicità La puntata extra Sulle opere Incompiute Che qualcuno Forse se l'è persa Ricordiamola In occasione Incompiuta Anche quella Sì sì Incompiuta Anche quella A proposito del fatto Che Berserk Non avrà un finale Ma poi Chissà Secondo me Ce l'avrà un finale Perché Tanto Lui sicuramente Miura Pagialanima Sua Ci avrà avuto Centinaia Di assistenti Finisce In maniera Particolare Però Quindi Scoprite Qual era Ovviamente Nientanto Patreon 3 più Di free playing Altrimenti Ve la prendete No in realtà Sta anche su Twitch Per chi la vuole Però se l'avete Informato podcast Dovete Pagare 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 E inoltre E è uscito Anche il nuovo Frank Vero Simone E' uscito Il nuovo Frank Con The Many The Many Red Che trovate Su Youtube E' Che uno Youtuber In verità Non è Diciamo Youtuber Si Non lo so Io preferisco La dieta Di un pro Con Che parla Di Di Musica Abbiamo avuto Un'amabile Chiacchierata Di musica E Bene Ok Va bene Quindi scaricatevi Anche Frank Cos'è La terza La quarta Puntata La terza Terza Puntata Con The Many Red Super Musica Grande Simone E niente Prima di passare All'argomento Top Della Della serata Ovvero Che A lui Di Horizon Horizon Zero Dawn E' una cicciona Enorme Ci ha segnalato Mircotto Che E' uscito Il Netflix Della cultura Italiana Da oggi Disponibile It's Art La piattaforma Definita Netflix Della cultura Col Patron Franceschini E vediamo Vediamo Io sono andato A farmi un giro Prima Il palcoscenico Virtuale Per ogni forma D'arte Vivi la bellezza E vabbè Se metti il tempo Di legge Vivi la bellezza Del patrimonio Culturali Artistico Italiano Teatro Musica Cinema Danza E arte In tutte le sue forme E quindi c'è Baglioni Santa Cecilia Digital Season La forza del destino Di Giuseppe Verdi Non so se lo conoscete Così fan tutte Di Mozart Sembrano più Spettacoli teatrali In realtà Che Che robe Sì Teatro della Scala Museo Egizio Teatro Teatro di San Carlo I grani del cinema Come? Dico Ci sono tutte patatine Il teatro Di San Carlo Eh sì Per chi le approvate tutte Tra l'altro Poi c'è I grandi del cinema italiano Sofia Loren Matrimonio l'italiana Roma città capitale Tony Servilo Gorbaciov E quindi Però bisogna registrarsi Però credo che sia gratuito Registrarsi E alcune cose Sono a pagamento Altre sono gratis Quindi It's Art Che ne pensiamo Di It's Art Che ne pensi tu Stefano Di questo It's Art Sarà la riscossa Del PD Di social Franceschini Dietro Esatto Mi sembra Anzi ho letto da poco Che Boh è un mezzo flop Già da Cioè Che è partito male E sta finendo peggio Ecco Quindi Che Insomma Non riscuote nessun interesse E non riscuote nessun interesse Neanche da parte del sottoscritto Devo dire Quindi sinceramente Non lo vedo bene Mi spiace Ma non lo vedo bene Magari Cioè Non è manco male Almeno il sito Non si presenta malissimo Però Se non viene Se non viene promosso Abbastanza Io Non ne sapevo niente Se non l'avesse fatto Mircotto Forse Era anche pensato Un po' Per Per mitigare I problemi Del covid Che stanno avendo Teatri E cose Però forse Dovrebbero promuoverlo Un po' Di più Non lo so Ma c'erano diverse iniziative Però Ne ho sentito parlare Poco Durante il periodo Clou Diciamo E poi Sono sparita Nulla In un certo senso Vabbè Intanto è uscito Quindi andate via Registare No 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 Vediamo se Interessante Ma Boh Vediamo se Se ci fanno Una bella affiliazione Con Con free playing Come l'affiliazione Di Dove potete andare Perché Molte volte Molto spesso Ragazzi Che ne so Io sto Sto girando Per strada No Quando mi faccio Il mio solito giro Per controllare Un po' la zona Che va tutto a posto E la gente mi chiede Oh Bruno Ma l'altro giorno Avete parlato di una cosa Interessantissima Non mi ricordo più Io dico sempre Guarda caro amico Del quartiere Vai su Extracredits.it Dove trovi tutti i nostri Extracredits E trovi anche i link I link Sponsorizzati Quelli di Amazon Quelli di Humble Quelli di Bundle Tutti quanti Che voi ci cliccate E Tutto quello che comprate Ci va No Non ci va a noi Ci va a una piccola commissione Di quello che comprate A noi Così potete supportare Free playing Senza pagare Come potete supportarlo Anche abbonandovi su Twitch Senza pagare Se avete il Prime Se non avete il Prime Abbonatevi su Paypal Che i soldi Là sono meglio spesi Secondo il mio personale parere Che non rispecchia Quello di Free playing Sp Detto ciò Allora ragazzi Purtroppo Ci risiamo Ci risiamo I soliti I soliti Ben pensanti Ben 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 benisti Per benisti Della Dell'internet Hanno L'hanno Ce l'hanno fatta Ce l'hanno rifatta Nel senso che A lui Questo personaggio Che Era così bello Hanno cambiato Le forme A Francesco A lui Francesco A lui Francesco E a lui A lui Questo personaggio Che nel primo Horizon Horizon Zero Dawn Era così sexy Così sensuale Nel secondo L'hanno fatto diventa Una ciccionazza Eh sì Ludo Charlie Era così bella Nel primo Horizon Zero Dawn Io mi sono innamorato Di Aloy Ho detto Mamma mia Aloy Stavo giocando A Nier Automata Ho preso proprio Il culone Di Nier Automata L'ho dato un caccio Ho detto Vaffanculo Voglio solo Aloy E quindi Perché nel trailer Di Horizon Forbidden West Che non so Se qualcuno Se l'ha visto Io l'ho visto Lo stavo vedendo Ed è veramente Cioè graficamente Porca puttana Sembra vero Beh ma anche il primo Era così Sì sì Ma qui Cioè proprio Con la cosa della foresta Ci sono andati giù Pesante Tutto verde Rosso Rosso verde E quindi Si vede a lui In particolare In un fotogramma Vediamo se Lo riesco a recuperare Eccolo proprio qua Che Appena arriva Giù Aspetta Allontanati un attimo Perché Cioè Perché hanno fatto Sto faccione Un po' All'Alberto Sordi Alla povera Aloy Un po' Un faccione Enorme E E quindi A dispetto Delle fattezze Così fini Così delicate Nel primo capitolo L'hanno fatto Sto faccione enorme In questo Secondo E la gente Pare che Che sia sclerata Perché Insomma Era E Questi Sono i soliti Social justice Warrior Che per Per includere Per l'inclusività Per loro Per qualche Benpensante Per qualche Bombonista Per qualche Schiavo Del politically Correct Inclusività Significa mettere Le femmine brutte Laddove Un tempo C'avevamo Le zizzone Bone A fare le protagoniste Adesso dobbiamo Metterci ste Bruttone Vecchie Come quella Di Returnal A fare le Protagoniste Per questa Presunta Inclusività E quindi Niente Polemica Polemicona E tra l'altro Contestualmente E' uscita Anche una mod Per il primo Horizon Zero Dawn Con cui Si possono Addolcire Le fattezze Di Di Aloy Nel primo capitolo E Questo Un articolo Di I love VG Che è un sito Credo collegato A GameRomancer Il podcast Della ribellione Ma Non proprio collegato Perché Quando ho postato La news Su Sul gruppo Facebook Di FreePlaying Dove potete andare Su facebook.freplaying.it E' arrivato Il titolare Ha detto No Questo sito Non c'è un cazzo A che fare Con GameRomancer Quindi Non vi sbagliate Non vi sbagliate E quindi E' uscita questa mod Che corregge I difetti fisici I presunti I difetti fisici I presunti I difetti fisici Scusate C'è la gatta Qua che Fa macelli Anzi La tecnica del suono La tecnica del suono Fa macelli Questi presunti Difetti fisici Di Aloy Gli alzo un po' Gli zigomi Un ritocchino Quina Cosina L'ha fatta Più addolcita Più aggraziata E questa ragazza Che si chiama Ilaria Celli Ha scritto Su I Love VG Quest'articolo Dove dice che E' sbagliato Fare queste mod Perché da un lato Vanno a modificare Il messaggio Dell'opera L'autorialità L'intenzione Dell'autore E dall'altro Poi promuove La dittatura Tra virgolette Della bellezza Della femminilità Che questo Secondo me E' un concetto Interessante Che esprime L'autrice Dell'articolo Dove dice Che Quando Le donne Vengono lasciate Un po' Più libere Nella storia Contemporaneamente Si Si afferma Di più L'imperativo Della bellezza Della femminilità Cioè Come dire Io ti lascio Fare quello Che vuoi Però sai Che per una donna E' bello Essere femminile Cioè Una specie Di soft Soft power Soft Condizionamento Per cui Sì sì Io ti lascio Libre Di fare Quello Che vuoi Però sai Che Una donna Per essere Donna Deve essere Così 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 Catello Dice Che tristezza Però i videogiocatori Si meritano Gli editor Di personaggi Grande Catello E In tutto ciò E chiudo il discorso E poi vi lascio La parola E' uscita anche Un'altra notizia Che dice Che il 41% Dell'utenza Di suoni E' femminile Che onestamente Mi ha abbastanza Mi ha abbastanza Stupito Perché No Noi Di solito Siamo Abituati Ah ormai Metà Dei giocatori Sono donne Però di solito In questa metà Donne Sono tutte quelle Che giocano Sul cellulare A Candy Crush Mentre adesso Invece pare Che Anche su PlayStation Il 41% Dei videogiocatori In realtà Sono videogiocatrici E quindi Anche Tra gli Hardcore Gamer A meno che Non abbiano fatto Candy Crush Pure su PlayStation Che non Non lo escludo Però insomma Anche su Dice anche Ludociani In effetti È stupefacente Nessuna mia amica Gioca Quindi chissà Magari Quelle che giocano Hanno Switch Ebbene Perché sappiamo Che Nintendo Già meglio di niente Già meglio del cellulare E insomma Tutte queste Magari Eppure merito Di questa Politica Sony Di fare queste Protagoniste Donne Non Stereotipate Non Diciamo Bamboline Ma fare Oltre a Daloi Fare anche Per esempio Ellie Di Last of Us E soprattutto Abby Di The Last of Us La tizia Di Returnal Qua dice Nadine Chi è Nadine Vabbè pure Nadine Quella lì E bla 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 Mirko Tu che ne pensi Tu che Sei esperto Di cartoon animati Anni 80 Guarda Io Allora Secondo me Il fatto è questo qui A me quello che avevano fatto Con il primo Horizon Zero Dawn Era piaciuto molto E Visto che me lo chiedevano Vi conti E beccatevi anche questo Un attimo Ma poi basta Anzi Cercate Guarda Bruno Così vedo tutto E se cerchi Loish Scritto L O I S H Horizon Zero Dawn Vedete Fondamentalmente Che questi momenti Poco podcast Ma lo potete fare anche a casa Questi qui erano I primi studi Che la produzione Di Horizon Aveva affinato a Loish Che è un artista Sarà conosciuta E super super Ormai il mainstream Con uno Penso degli stili Più accattivanti Che ci possono essere Perché piace veramente a tutti Per sviluppare Loish Ed era Molto Il personaggio Appunto Classico Che fa questa disegnatrice qui Ed era anche Proprio secondo me Quei concerto Classico Di bellezza D'eroina De videogiochi A cui avevamo abituati Un po' principe sadisti Devo dire Sì C'era già molto C'era molto Sta cosa qui Quello che erano riusciti a fare In Horizon Era proprio Di scostarsi completamente Perché mi ricordo Le polemiche Proprio per Il fatto che Alla fine Il modello finale Da Loi Non era per niente Concentrato Il concetto di bellezza Stereotipata E classica Ma era qualcosa Comunque Con una caratterizzazione Abbastanza evidente E per me Era Già centrato In pieno Il bersaglio In quel Modo lì Soprattutto Considerando Proprio da Quello che era Il materiale Da cui erano partiti Perché nell'artbook C'è proprio scritto Chiaramente Che quelli Erano degli studi Iniziali E quindi Era una prima Previsualizzazione Che già aveva Accentrato Fondamentalmente Il carattere Però poi Lo hanno cambiato Completamente E' vero Che in questi casi Entra in gioco Il motion capture La scansione Degli attori E tutta una serie Di cose Però c'era proprio Un approccio Molto meno Stereotipato La classica Eroina Bella 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 Insomma E quindi La domanda Che mi faccio io E questo cambio Non riesco A motivarlo Sinceramente Perché Già funzionava E' uno dei giochi Con degli stili Più belli Che ci sono Negli ultimi anni Purtroppo anche lì Il designer Delle creature Morto stanno Per cui anche lì Non credo Ne avremo nuove D'originali Ma ci saranno Delle variazioni Delle solite E Però Vabbè Un altro discorso Nei giochi Quello che conta Non è la faccia Del personaggio Mi dispiace Dav Anche sta brutta notizia Perché il personaggio Lo vedete Per 99% Del tempo Di schiena Per cui c'è una cura Grossissima Verso quella che è Proprio la silhouette Del personaggio La lettura Di movimenti Eccetera Ma vista da schiena Che è la visuale Appunto Di gioco E la seconda cosa E che proprio Secondo me Non è A me non me ne frega Un cazzo Detto proprio Palesemente Che sia ingrossata Cosa Ma è Disarmonica In una maniera Che non riesco A trovare motivata Perché Se guardate Nelle immagini promozionali Ancora c'ha I bicipiti Super Proprio Secchi secchi Le braccia Tutte di corporatura È esile Rimasta tale Quale Al modello Dell'1 Se no addirittura Un penetto Più scavata E però di faccia C'ha sto Rigonfiamento E non lo riesco A comprendere Sai cosa Mi addirittura Addirittura Ho notato Da un Da un Da un primo Piano Che addirittura Hanno fatto pure I denti storti Ma Allora Quello però Quello però È una cosa Che è Normale Nei personaggi Spezzare La simmetria Proprio per togliere Quell'effetto Ultra Finto Che ti dà Proprio il 3D In cui modelli Tutto simmetricamente Anche parecchi altri giochi Come siamo pure Negli ultimi Resident Evil E nel The Last of Us Se ti guardi Non hanno i denti Leggermente fuori asse Non hanno più La dentatura perfetta E so Quelle piccole Appunto Imperfezioni Che ti aiutano A Percepire Proprio Il realismo Che so cose So sottigliezze Che però funzionano Alla grande Si vede Da sti dettagli La cura Oppure i capelli I capelli sono Stefano che sta morendo Sì infatti Stefano È scioccato Perché si sente Si sente Il vomito Si sente il covid Che cazzo stai dicendo Ah sì Ma perché Il push to talk Però qui c'è C'è proprio sta cosa Nel In alcune immagini Che si sono viste Perché poi Dico Nel gioco in movimento Non si nota minimamente Sta cosa Non è che C'è una testa Tre volte più grossa Però È strana In alcuni casi Non c'è Non riesco a capirla Poi dopo Torniamo lì Ormai L'alette di tutti i colori Eh va bene Gli eroi Devono essere così Cioè in conto è chiaro Kojima per far vedere Il personaggio che cambia Che ti mette il corno in testa I pezzi di ferro La benda Ed è evidente Che c'è un cambiamento Qui si è scelto Probabilmente D'andare In una direzione Un po' più sottile Però è strana Poi torniamo Tra quanto esce Horizon Sarà il design definitivo Siamo sicuri Io ormai Faranno una roba La Sonic Magari Che la rifanno No la Sonic Non sarà Però non mi sembra Anche qui Che sia il primo caso Non mi ricordo Che era anche Jim Valentine Sempre di Resident Evil O forse qualcosa Sui Devil May Cry Che nei primi video C'era tutto un design Ma la mano Che si avvicinava All'uscita del gioco Cambia Ma anche perché Magari stanno facendo Stanno finendo ancora La parte relativa A tutta l'animazione Fascinale Eccetera Quindi Scusami Ti puoi avvicinare Un po' di più al microfono Che vai e vieni Eh super Prendi spunto Da un giorno in pretura Tempato Ma forse bisogna fare Impostazione Vedremo Vedremo ragazzi Vedremo Dicevo Cioè siamo sicuri Che è il design definitivo E che non è un placeholder Per tirar fuori Sta demo Per cui manca Di finitura E ci sono delle cose Che stanno sistemando Rigging Eccetera Perché poi è chiaro Torniamo lì Se ti vuoi incazzare Vuoi dire che è una chiattona Becchi il fotogramma Più orribile Che ha tutta un'animazione Di 20 minuti E dici che cosa Per me Poi Dico Non voglio fare il pignolo Però è un fatto di coerenza Nel creare una situazione Coerente tra di sé Salti Ti muovi Eccetera Il tipo di Anche fisico Senza fare gli anatomisti Le cose troppo Esagerate Cioè Puoi anche essere Una quarantenne Comunque con un fisico Di un certo tipo Perché è derivato Da quelle Attività Per cui Semplicemente Dico Secondo me È fuori fuoco Non è sbagliato Non me ne frega niente Che sia bello e brutto Non è manco più questo Perché ormai Non c'è manco più Quel concetto Perché L'eroina Veramente ultra Figa Truccata È morta Già da almeno 7-8 anni A dirla tutta Forse anche di più E non è più quello La questione C'ha ragione Catello Quando dice Allora a sto punto Fatevi i vostri personaggi Con editor Cioè Non rompete i coglioni Ma non è questo Però si può Fa per me Un discorso Di personaggi In un contesto Che sembra Strano Perché non Non mi porta Cioè io Ho amiche Che so O molto più massicce Da loi Perché fanno Una serie di sport Fanno magari anche Bodybuilding Eccetera Ma c'ha Una coerenza La cosa Qui mi sembrano Slegate le due cose Se devo fare una critica La testa È di un personaggio Il corpo è di un altro Fine Però adesso Magari Prepariamoci Che arriverà La merda secchiata E per sta cosa Per me È semplicemente Quello il discorso Perché è strano Che uno gli si gonfi La faccia E tutto il resto Rimanga un po' così Poi si sente dire Magari ha fatto Un po' di cortisone Per Però lo capisci Che non è che Il cortisone Non è una questione Naturale Cioè Perché Perché a livello Di tessuti Grasso Eccetera Per quanto uno Lo può mettere In zone diverse Eccetera Guarda che Braccine Secche secche Che ha Le gambe Sono sottili Capite È strano quello Se poi me la vuoi fare Tutta caricata Ma chi se ne frega Va bene La guardo Per il 90% Con l'armatura Ha 13 archi 180 bolas 8 faretre Ma ancora vedo più Il personaggio Cioè Per cui Fine Anche fine La faccenda Però È un po' strano Non riesco Veramente a capirla Sta scelta E per me Vedrete che Secondo me Sarà anche un leggero Cambiamento Prima dell'uscita Ma secondo me Alla fine Comunque Da una caratterizzazione Una personalità Al personaggio Perché appunto Se fai il personaggio O fai Il design Appunto La Niara Automata Però anche Niara Automata Alla fine È un design Azzeccatissimo Però Più dal punto di vista Dell'abbigliamento Sì Ma Il personaggio Di per sé È anonimo Sì appunto Il personaggio È super anonimo Ma anche il viso Cioè Bellissimo Però È freddo Non ti dà una Non ti dice Volutamente Anche volutamente Sì Però In generale Tutti i personaggi Di Niara Automata Non hanno questa Grande caratterizzazione Che uno Cioè Se io vedo Aloy Un po' Mi faccio Un Anche istintivamente Inconsciamente Mi faccio Un Un'idea Di che tipo Di personaggio È Che tipo Di carattere Ha Che tipo Di storia Se vedo Appunto Niara Automata I personaggi Diciamo Classica L'ironina classica Mi dà molto Più l'idea Della Boh Della bambolina Così Placeholder In quel caso Si Placeholder Che non ha Comunque A me Se devo dire La cosa che mi fa incazzare Che nel 2021 Playstation 5 Ancora fanno i piedi piatti Le animazioni con i piedi piatti Che non articolano Le dita dei piedi Notatelo Notatelo Quando Perché ragazzi Bisogna essere in tanti Che dobbiamo fare le petizioni Dobbiamo Dobbiamo fare la rivoluzione Notate Quando Quando i personaggi Si accovacciano Che Provate voi Ad accovacciarvi E vedete se tenete Il piede dritto Come lo tengono i personaggi Di videogiochi È una cosa che non si può vedere Non sopporto più Basta Soprattutto quando corrono Vabbè Bruno A questo punto Dopo due minuti Che stanno accovacciati Dovrebbero spaccarsi le ginocchia Perché Eh sì No ma Non è il modo più Migliore Per passare inosservati Stanno accovacciati Anzi Il camminare accovacciati Anzi Tutto il contrario Comunque Scusate Mi collego Un attimo Un chat Che dice Stanno parlando Appunto Che in Final Fantasy 7 Remake Tifa Erit Hanno la stessa faccia In Kingdom Hearts Ma infatti Secondo me È un problema molto Dei giapponesi Bravo Sì Quella è proprio Una limitazione Anche derivando Proprio da Quelle sintesi anime Come proporzioni Eccetera La caratterizzazione Riesce a darla Sul vestiario Sul comportamento Eccetera Però effettivamente Sulla faccia Rimani un po' lì Però Se te Bruno E te Che sei un conoscitore Di queste cose Ripensi All'eroine Del cinema Fine anni 80 Anni 90 Insomma Inizio anni 90 E cioè Ti pensi a Sarah Connor Ripley Dei Alien Non era per niente Sì infatti Lo stavo per dire Anche io Che all'epoca Cioè Credo che si facessero Magari Noi non abbiamo Consapevolezza Perché all'epoca Non c'erano i social network Eccetera eccetera Però Da quello che ricordo Vagamente Credo che all'epoca Pure C'è la La Ripley Di Aliens Al telegiornale La chiamano La Rambolina No Perché volevano dire È una donna Però È molto mascolina Ma anche Sì ma Scusa La Michelle Rodriguez Per dirti Scusa La Jamie Lee Curtis In True Lies È proprio Cioè per dirti Cappello corto Cioè è l'anti Tra virgolette Sesso Nel senso È contrario A tutte cose Eppure Va buon Lì c'era Cameron Che faceva i numeri Ti riesce a tira fuori Comunque un personaggio Che è sexy Quando deve essere sexy C'ha la prestanza Da spi Eccetera È molto Nella cultura Proprio del bello Del perfetto È una cosa Molto più recente Stanno nell'ultima decina D'anni È in realtà Dove Sono tutte perfette Oppure io Ho guardato Mi sono rivisti Robocop Cioè in Robocop Non c'è Una Che è la bellona Di quegli anni Cioè Forse con Pamela Anderson Mi viene un po' Da dire Che sei proprio Sdoganato A livello pazzesco La chirurgia plastica Il bisturi Il ritocco La ricerca della perfezione Le faccette nei denti Eccetera Adesso Secondo me Si sta tornando A una normalizzazione Per fortuna Però è chiaro Cioè per me Se parliamo di gioco d'azione Devi trovare il personaggio Con la faccia giusta Per il gioco giusto Fine Non è una questione Di bello Brutto Niente È soltanto Sta cosa qui Lei comunque È molto particolare Perché a seconda Dell'inquadratura A seconda Del frame In certi momenti Altri invece Ci sembra figa Ti dico Che secondo me C'è qualcosa Che ancora Non mi convince Appieno Nel lavoro Che stanno facendo O qual è La mossa reale Dietro Sto redesign Perché Perché Posso dire una cosa Ma allora Facendo il fatto Che comunque Io non ci vedo Niente di male Questo Anzi Non ci avevo fatto caso Che era Più grassa Anche se a me Sto riguardando Non mi sembra Per niente Più grassa Sì C'ha le guance Più piene È un po' Le guanciotte Non è infatti È un po' È allargata Sotto Comunque Guardando Il filmato Soltanto a me Mi sembra Che il personaggio Si è illuminato Diversalmente Rispetto al resto Del scenario E ora Per farlo risaltare Di più Quest'occhio Clinico Quello sarà Unreal Engine 5 Che non viene usato In questo gioco Ma Nel senso che Forse Matte Matte No no Non è un'impressione tua L'hanno L'hanno Visto bene Nell'analisi Di Digital Foundry Lei c'ha i capelli Che Fanno a posto Per farla vedere meglio L'hanno detto O è una questione Stilistica Su delay O è una questione Di luci Che è da calcolare Sui capelli Era un macello Perché Se tu vedete Se guardate bene I video di gameplay Sulla testa Sempre La testa La luce E c'è sempre L'illuminazione Fissa Sempre Ecco Beccato i denti Strati Sono Cazzini Ah ok E Sì Quindi è una cosa tecnica Non è una cosa stilistica Non si è Non si è capito Però si vede Chiaramente Hanno detto O è stilistica O è un problema Ma la domanda è Ma chissà Se girerà incredibilmente bene Su playstation 4 10 No Dicevano in chat Che il modello Veramente Che c'era la capa grossa Era a lui da bambino Quello Sì Quello era inquietante Perché poi Non solo aveva Cioè Non aveva neanche la capa grossa Poi i capelli Che ero Super cotonatissimo Aspetta Peppo Pig C'ha la polemicona Come mai Non è venuto fuori Un haters Che ha detto Io Returnal Non me lo compro Perché guidare una vecchia Perché secondo me È proprio superato il discorso Noi gliene frega più Cioè Torniamo lì Chi tira fuori La questione grossa Che non è Cioè Anche lì C'è chi ne discute Civilmente E chi fa Che merda Le solite robe E ok Però Se il gioco funziona E sembra interessante Ma voi veramente Vi fate Problemi Per il Oh no no Il personaggio Non mi rappresenta Non fa parte Del mio fantasy E non lo giocherò mai Cioè Boh Io non credo Secondo me Returnal C'è la cosa Che lei Sì È anziana Però Ti dà l'idea Di essere quella Che da giovane Era super figa Quindi forse In quel senso Un po' Tra virgolette L'accetti di più E Lei invece è giovane Però c'è il faccione Quindi Tra l'altro C'è questa faccia quadrata Che Credo che sia Anche una roba Di design Perché una volta Vedi un Filmato Un video Che spiegava Che il quadrato Come forma Rappresenta la stabilità La La concretezza Mentre il triangolo È per i personaggi Più furbi E il tondo Per i personaggi Più emotivi Tu confermi Sì Sì Quello è Basic design Basic design Basic instinct Va bene Cattello dice I bambini I videogiochi Sono semplicemente I rig Dei modelli principali Scalati del 60% Poveri Ma I bambini Fanno rig Fanno schifo Nei giochi Esiste un gioco Con i bambini Fatti bene Il problema È che È quello Degli scheletri Cioè Che Creano scheletro In un rig Per ogni personaggio Infatti ne parlavano Anche sul gruppo De free planning L'altro giorno Cioè I personaggi Sono tutti alti uguali Se voi ci fate caso Al massimo Sono scalati Perché a fare Uno scheletro diverso Con delle proporzioni Diverse Tra le varie cose Costa una valangata Di soldi Devi rianimare tutto Invece ce n'hai uno Generico per tutti Per cui i bambini Appunto Sono dei gnomi In realtà Anzi Sono proprio la versione Si La versione scalata Degli adulti Sono dei mini adulti Non so Dei reali bambini Comunque graficamente Veramente Tanta roba Sì ma Per me Chissà se finirà Come il primo Che magari Quando esce questo Uscirà anche Zelda Breath of the Wild 2 E nessuno se lo cagherà Ma non è vero Se lo sono cagare C'erano insieme Come la prima volta E saranno ancora Zelda con la grafica Però scusa Veramente Voi non comprereste Un gioco Perché c'ha il protagonista Brutto Gli standard personali Allora Io personalmente Ti posso dire Che magari Posso farmi il problema Con i picchiaduro Scorrimento Stile Double Dragon Perché là mi piace L'estetica Proprio anni 80 Di quelli che girano Con le catenone Con le borchie Quindi quando vedo Magari che Ultimamente Ma neanche più di tanto Ultimamente per fortuna Però c'è stato un periodo Che facevano un sacco Di picchiaduro Scorrimento Però devono essere Tutti super ironici Tutti con i personaggi Super deformed Tipo Scott Pilgrim In picchiaduro A me fa un po' cacare Quello stile estetico Non il protagonista Però lo stile estetico Mi smonta molto No si però È solo quello Poi se un protagonista Eccesso Onestamente non mi ricordo Ma se ti pensi Se ti pensi Anche a un Cadillac And Dinosaur C'erano veramente Anche lì personaggi Un po' per tutti i gusti E per quanto Ugale Entrano certo Comunque stanno parlando Di roba anni 80 Per cui Ok Però alla fine Dai c'era il tizio Panzone Ma anche nei giochi Della Capcom C'è sempre stato Un po' il personaggio Per tutti i gusti Comunque dice Jerry Kalashnikov Vorrei sbagliare Ma mi sa che Il problema del viso Sia più un problema Di camera E si forse un po' Anche tipo Quando c'hai L'obiettivo grand'angolo Che ti fa il faccione Forse anche per quello Lei c'ha il faccione Comunque bambini belli Nei videogiochi Su Yakuza Quelli razzisti No beh Esatto I migliori quelli In Fable forse Sempre in chat Fatto vedere Aurelio Su The Last of Us 2 Sempre in chat C'è Red Dead Agama Che dice che In Final Fantasy Remake Sì sì Il famoso Red Dead Mi piace che nomini Bruno ci nomina Come su Altre persone Tra l'altro Che dice che In Final Fantasy 7 Eris e Tifa Erano diversissime Sono diverse Sono diverse Sì sì Cioè Eris è molto più occidentale Ce l'ho qua Eris è molto più occidentale Nei tratti E meno giapponese Tifa è molto più Asiatica Vabbè Ma sono differenze Cioè Molto picche Chiaramente poi Non essendo Realistico Come tratto È ovvio che Anche Claude Se tu lo vedi C'è lo stesso volto Femminile Però I tratti Sono diversi Cioè Non è solo Il colore degli occhi Che cambia Poi sempre A proposito di anime Hanno chiesto Se è ispirato Horizon La principessa Mononoke Di Miyazaki Non mi sembra Ci sia Tra ispirazione Mi sembra C'entri Molto poco Però c'è un po' Un mood Alla Miyazaki Da eroina Di Miyazaki Sì Al massimo Vabbè Ma stiamo a sottolineare Dicono anche i men E lei Un po' La principessa Catello Scrive Non so A me sono sempre Piaciute Soltanto Le cyber bestie Horizon Una caratterizzazione Di lei L'ho sempre trovato Un po' blanda Ho visto anche Il documentario Di Noclip E mostra Come in frasi Di preproduzione Si vedono cose Molto più fighe Benvengano I molti imperfetti Dice Ludo Charlie Sì Però Al fine Il realismo È l'imperfezione Sì Sì Stolto I loro perfetti Non sono realistici Per niente Stolto Dice Sembra Un'austriaca Campagnola Che si occupa Di mocche Sarebbe Un grandissimo risultato Se fosse Però a me L'austriaca Campagnola Che si occupa Di mocche Onestamente Un po' Un po' mistuosica Un po' Tizzo Vedi Mi rientrava Il buon gigione C'è un po' Di cameriera Dell'Octoberfest È bravo Bravo Di quelle che ti arriva Con 100 boccali Quelle che ti arriva Con i 12 boccali Sì Sì Un pochino Secondo me Ma chi Aloy Sì Sì Se te le immagini Immagina La quale trecine L'ho sempre Seguita Su Betaster Solo Bruno E il voto Perfettamente Simmetrico Massimi Infatti E vabbè Tra l'altro Quest'inquadratura Di quando Cavacca le bestie Se fosse stato Un videogioco Giapponese Sarebbe stata Una roba Avrebbe avuto Il tanga Sì Avrei già prenotato Purtroppo Non è Partiva Sarebbe partito Dalle spalle Ma tipo Attaccata Dalle spalle Scendeva giù Delle cordicine Un gioco Di specchi Sì Sì Aspettiamo Il DLC Oktoberfest Tra l'altro Poi l'amico suo Qua Nella Sì L'amico suo È proprio Un livello Una qualità 10 step Più in basso Senti Mattea Ma tu lo compri? Certo Ah certo Manco Sì Perché non Sennò che Me ne sono preso A fare a PlayStation 5 Scusate Ma ormai I ragazzi Stavano scendendo Ma esce pure Uncharted 4 Su PC Avete visto? Sì No ormai C'è pure la PlayStation 6 Perché Su PC Comunque Cos'è Piccolo aggiornamento L'altro giorno Due tre giorni fa Ho fatto una ricerca Così su ebay Per ridere E vendono A 600 euro La digitale Così È la miseria Sì È quella che costava Anche di meno Tra l'altro A 5,30 Scusa La digitale Ed è A 6 A 6,70 Io comunque Tutti quelli Che conosco Che la volevano Ce l'hanno ormai Sta PlayStation No no È ancora una presa Per culo Io Non più tardi Di Che sarà stato Non mi ricordo Febbraio Marzo Sono andato Da GameStop E ancora Oh devi fare il click day Ma chi ti si incula A me adesso Mi hanno detto Che ultimamente Stanno facendo offerte Tipo dei bundle O te la prendi in bundle Un po' così A ricatto Tipo Sì Sì Beh sì Perché Ti vendono A PlayStation Più secondo bed Più un gioco Di 700 Combe così Le devi dare Però te la trovo Subito Proprio pronta consegna Sì Comunque Ancora Non si sono risolti I problemi Di Di rifornimenti Di prestigio Mi ha detto Il cliente Che manca il silicio Non lo so Perché certo Lo devono mettere Dentro i vaccini Per cui è normale Meglio salva il mondo Scusa Ha comprato tutto Bill Gates Per mettere dentro i vaccini Scusa Bill Gates C'ha altri problemi Bill Gates Dei quattrini Alla moglie Ma pensa che Mo vanno a rimorchiare Lui e Bezos La sera Lui e Bezos Lui e Bezos Ah Bezos Non sa cosa consiste Loro due che rimorchio Loro due sono seduti A casa A cenare Eh beh Che chiamano i scemi E la gente bussa Cioè C'è Metà della ricchezza Mondiale In due Il dociale dice Sony ha detto Che si aspettano Problemi di fornitura Fino al 2022 L'ho inoltrato E poi Guarda caso Quando finirà La sperimentazione Dei vaccini Eh Tutto collegato Eh certo Finiti i vaccini Finiti i vaccini Iniziano le Playstation E che Sony Ha detto Che punterà Su PS4 Fino al 2023 Quindi Fanno Come Schindler's List Un bottone Una vita Fanno Una Playstation 5 Una vita Eh sì No ma infatti Adesso mi sa che Comunque Microsoft Non ho letto Non ho studiato Ma mi sa che Microsoft si sta Un po' Cioè contento Di sto Di sta situazione Eh sì Perché A parte quella Perché Xbox One Credo che Stia vendendo Un bel po' Di più A causa Di questa L'altro giorno L'hai visto Il cortocircuito No Non l'ho visto Sulle vendite Hanno fatto Un cortocircuito Sulle vendite Proprio E Ancora Sony È ultima Se la battono Sony e Nintendo E Microsoft Stava Ultima Boh Mannaggia Che comunque Qualcosa in più La stiano vendendo Perché magari La gente Stava La bocca Per comprare La Playstation 5 Non la trova Alla fine C'è Vaffanculo Eh ma Sono modelli Tanto diversi Ancora Mi prendo Xbox One Col Game Pass C'è Vaffanculo Tra l'altro In questa scena Qua che si vede Adesso Dove lei È andata a bere Agli assetati C'ha Lei c'ha una Mimica facciale L'altro parla E lei c'ha la Mimica facciale Proprio di quella Che non sa che Faccia fare Quando parla L'altro Non so se vi siete Mai Trovati In una situazione Di ascoltare Qualcuno E non sapete Che faccia fare Incominciate a fare Smorfie strane Doctor dice Quindi God of War 2 Su PS4 Anche Sì Immagino che In effetti Dicevano di sì Non so se niente Magari uscirà La versione Ma tanto ti pare Che te fanno A parte che sarà fatto Con tutti gli avanzi Del Dell'Uno Per cui Secondo me Faranno la doppia versione Ma sicuro Cioè io Non penso Che si vanno A bruciare L'occasione Di Piazzarlo Su un miliardo Di Playstation Lo sai cosa sarebbero Se facessero Sarebbero Fuori di te Secondo me invece 2023 Quindi PlayStation 4 Sarà già fuori Vabbè Ok Dai Io direi Non lo so Stefano Simone Volete aggiungere qualcosa Perché avete parlato Un po' di meno Di questo No no Io non Non volevo parlare Della cosa Infatti Non volevo parlare No io rapidamente Io personalmente Sì 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 Ognuno fa poi Rapidamente No io trovo Che abbia un viso Brutto Al di là di Di tutto Cioè strano Ecco più che brutto Perché è quello Delle donne Stefano Stai dicendo Esatto Forse per quello Al di là di tutto Gli occhi sono belli No È tutto strano È tutto strano Però i guardiani Della galassia Grazie Cotonerio Che si è abbonato Col Prime Grazie Quindi non lo so A me sinceramente Non piace proprio Come stile Non me ne frega niente Che sia più grasso Più magra Non mi ha fatto impazzire Non mi faceva impazzire Neanche nel primo Ma qui è proprio strana Non Neanche è brutta Proprio strana La trovo In generale E non capisco bene Perché fare sta cosa Probabilmente per fare in modo Che gente come noi Ne parli E niente Io non penso Io ti dico Non penso che Proprio considerato Il punto di partenza Che ci avevano In cui già L'avevano affrontato Su discorso Era un argomento Tra virgolette Chiuso Quello Non Mi perdo Il passaggio Tra una cosa In altra Perché se fosse stato Che dal primo Fosse stata appunto L'Angelina Jolie E poi nel secondo Diventa la Soralella Capisco che c'è stato Qualcosa di mezzo Che chiaramente Ma qui Non è che nel primo Era tutta un'altra cosa Qui hanno accentuato Delle caratteristiche No 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 Ma infatti La trovo solo strana Diviso Ma come posso trovare strano Qualunque altro personaggio A cui cambino Le fattezze E tra l'altro Non sembra così diversa Dal primo capitolo No però Quel gonfiore lì Che davvero Sembra appunto Non è più una questione Di inquadratura Lì Quando si vede Proprio la facciona Perché te la fanno Vedere in primo piano Guarda Io la trovo strana Né bella né brutta Strana Faccio un esempio stupido Nel primo Non c'avevano La gestione Del mocap facciale Di un certo tipo Che nel secondo Diventando più realistico E più morbida E quindi cambia Poi se anche Semplicemente Una motivazione tecnica Stupida così E alla fine Non è detto Che c'è sempre Cioè anche Smettiamo anche Di pensare sempre Che c'è la motivazione Nascosta Perché C'è una provocazione No 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 ma perché C'è la gente Che è veramente Convinta Che c'è la cosa Cioè Perché quello Porta i click E quindi Esatto Ma ragazzi Ma anche un gioco Che ha venduto Migliaia di coppie Che è stato apprezzato Da critiche E giocatori C'ha bisogno Di una polemica Per portare Click Ma no Aveva fatto schifo Quindi Vabbè ma te Ogni tanto Fabio C'è ste cadute Il gioco Il gioco Magari Non ha Anzi sicuramente Il gioco Non ha bisogno Dei click E la stampa Che ha bisogno Dei click Ma ho capito Ma ho capito Ho capito Però la stampa S'attacca A un dettaglio Che non è Un dettaglio Così secondario In questo caso Da passare Completamente inosservato Cerchiamo anche Un attimo Di dire Da sta facendo Che se fosse stato Una ciocca Di capelli Diverso Una simulazione Diversa Di capelli Nessuno avrebbe detto Veramente Veramente niente Qui c'è un attimo Cambiamento Che un minimo Ti ci fa Soffermare Di come mai C'è stata Sta cosa Poi No Tra un po' Verrà il director Spiega perché Allora si è mangiata Delle bistecche Di pronto Il cortisone Il cortisone Capito Dopo quello È ridicolo Se si arriva A queste spiegazioni No Però Magari È il 5G Degli auricolari Che c'ha Neore Cazzo Ce l'ha da quando C'ha 8 anni Eh Appunto La fine Si è confiato Le guance Ma Io ripeto Non la trovo Neanche così Diversa Dal primo Per me È la solita roba Che si monta Su internet Magari con i meme Poi Le riviste Lo riprendono Poi scatta La polemica social E poi ne parliamo Noi ovviamente E Alessio Tu pure tu Che hai parlato poco C'hai qualche cosa Da aggiungere Ma No Veramente Non credo Avere nulla Da aggiungere Perché avete detto Più o meno tutto Io Sono d'accordo Con la faccenda Che più diventano Realistici i modelli Dei personaggi Di videogiochi E più Verrà fuori Che in effetti I modelli Soprattutto come si fanno Nei giochi giapponesi Sono tutti uguali E quindi Visto che in occidente Abbiamo più la tendenza A creare personaggi Più Unici In qualche modo Bisognerà Mettergli dei difetti Per riuscire a caratterizzarli Quello che si fa spesso Anche nei fumetti Non nei comics Supereroi Di fare Il taglio di capelli La cicatrice Cioè Tutte quelle cose Che possono in qualche modo Definire Il personaggio Verranno fuori Sotto forma di Su Aloy Il discorso Della peluria facciale Cioè Che è un dettaglio Incredibile Tecnicamente Da vedere Cioè La barba E che è un dettaglio No Non è la barba È quel minimo Di peluria Quasi trasparente Quasi invisibile Che spoiler Anche le donne Possono avere Perché Il problema È che qua Parliamo sempre Con degli adolescenti Troppo cresciuti Eri andato così bene Che cazzo Ha detto Quelle donne Aloy In alcune inquadrature Quelle donne fanno schifo Alessio Smetterei di dire Sta cosa Che le donne fanno schifo Vabbè Fate finire il concetto Ma bene Bene Che fa schifo Perché c'ha Qualche cosa in più Che una Lara Croft Non ha C'ha qualcosa Che la rende più unica Un qualcosa Che la rende più persona Che la rende più intrigante Da vedere La metta al posto suo La metta in cucina Da accudire i dinosauri E quindi tra l'altro Io neanche mi ero accorto Di tutto questo problema estetico L'ho trovato appunto Più dettagliata Rispetto al primo gioco Già nel primo gioco Mi ricordo che Si era fatta polemica Riguardo al fatto Che era una bellezza Non canonica Aloy Perché era lontana Dal classico personaggio Della bambolina E tutto quanto E Viva Dio Che era così Cioè era già Fantastico Che fosse così Nel primo gioco Qua stanno Insistendo Su questa strada Come diceva il maestro E Bene così Gli imbecilli Continuano a fare Gli imbecilli E va bene Comunque Ludo Charlie Io vi dico Solo per chiudere La cosa Che sono Una delle robe Che potrebbero Farmi crollare E prendere PS5 Il prima possibile Potrebbe essere Proprio questo gioco Perché Dal trailer Dal gameplay Che si è visto Mi piace tantissimo E già il trailer D'annuncio Aveva delle chiare citazioni A Breath of the Wild Che comunque Ovviamente Mi toccano cordere Il mio cuore Hai giocato sensibili Si 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 Mi è piaciuto un sacco Ma sono usciti Poi bene Contemporanea Tra l'altro Sono usciti lo stesso giorno E Sony ha trollato Tantissimo Quel giorno lì Me lo ricordo Scontando Di 100 euro PlayStation Ma è vero Così Giusto Per cagare il cut No no Per dire che Non è che dici Ha copiato Cioè Quello ha copiato Dall'altro Sono semplicemente Tutte e due usciti Penso che magari Siano anche idee Che sono venute Nello stesso momento Perché hanno Tanti elementi In condivisione Lo fai uscire Lo stesso giorno Vedo difficile Che uno possa copiare Da un gioco Che non è ancora uscito No E' anche una roba Affascinante Questa per me E' una cosa Che mi ha sempre colpito Quando dalla parte opposta Del mondo Qualcuno Ha la stessa idea Tua E' uscita Nello stesso periodo Magari proprio in quei giorni Magari proprio in quei giorni Da Nintendo C'era un nuovo Inserviente Un certo Jack Guerrilla Esatto No ma sto pensando che Viene una ragazzi Per dirvi una Ovviamente Horizon ha rielaborato L'idea delle torri Di Assassin's Creed Con i dinosauri Ci sono certi dinosauri Particolari Su cui tutti arrampichi Per Racing Ma è la stessa roba Che abbiamo sempre fatto In Assassin's Creed Ma è È una bella idea Come l'hanno Contestualizzato Nel gioco E Zelda Ha la stessa roba Con le torri Che devi andare a sbloccare Con le enigme Eccetera L'hanno ripresa Entrambi E personalizzandola Per il contesto Del loro gioco Sono somiglianze Di questo tipo Come anche Magari L'esplorazione Il combattimento Con l'arco Con il rallenty Che sono soluzioni Tecniche Sono soluzioni A cui effettivamente A intuito Ci si può arrivare Però è È incredibile Quante piccole somiglianze Si possano trovare Fra due giochi usciti Lo stesso giorno Ma probabilmente Penso che sia roba Da ricerca di mercato Che dice Adesso Dovremmo fare Quel tipo di gioco lì Per vendere Eccetera Eccetera Quindi chiaramente Se va quello Diciamo Tutti e due Hanno concepito Quel tipo di gioco lì Vuoi perché hanno avuto Ragionalmenti simili Vuoi perché hanno guardato Giochi simili In Nintendo Non fecero mistero Di aver guardato Skyrim Di aver guardato Assassin's Creed Ce lo disse Lo dichiararono proprio E ci sta E' anche così Che si fa Che ci si rinnova Breath of the Wild È stato proprio Svecchiare Zelda Guardando un po' Gli altri cosa facevano Ma il punto della questione È che appunto Horizon ha tante somiglianze Che chiaramente Da una parte Fecero sì Che nascesse il meme Di Zelda con la grafica Quando era uscito E dall'altra Chiaramente ha dei punti Che mi attirano Molto personalmente Io ho giocato Horizon 10 minuti La versione VC E Breath of the Wild Mezzo minuto Con l'emulatore E quindi posso parlare A ragione veduta Da quello che so Non sono poi così simili Perché Breath of the Wild Aveva molta più interazione Con gli scenari Era molto più sandbox Nel senso che Potevi fare tu le strategie Per affrontare Le varie situazioni Invece Horizon È un po' più È Ha comunque Una certa libertà Del gameplay Però è molto più Impostato Molto più Su binari Tra virgolette Infatti anche vedendo Questo gameplay Del Dello State of Play Che tra l'altro Qualcuno l'ha visto Sto State of Play Io non l'ho visto Io L'ho visto Magari dopo Ti facciamo due parole È questo C'era solo questo Ah ok Sì Vedendo questo gameplay Onestamente Mi è sembrato Che fosse un po' Sempre il solito Mi è piaciuto molto L'utilizzo delle musiche E dell'accompagnamento sonoro Perché l'accompagna Molto bene Ne varie situazioni Specialmente In quel momento In cui lei si trova Circondata Dai vari Dinosauri Quelli piccolini Quindi scappa qua Vai là Attenzione Aiuto Non so dove andare La musica carica In quel momento Però non so se Se sarà anche in game Così che la colonna sonora È dinamica E sottolinea le azioni di gioco Gran figata Però se è una roba Solo per il trailer Boh Gameplay alla fine Ho visto sempre Le solite cose Stealth Combattimento Arrampicate Magari fatte Benissimo Però Vediamo un po' Niente Prima di chiudere C'è una cosa Che ha scritto Ludo Charlie Che volevo Perché abbiamo fatto Molto la cosa I giapponesi Sanno fare I personaggi Occidentale In realtà Come dice Ludo Charlie Giustamente Alla fine Basta prendere i volti Di attori Di persone vere Per caratterizzare Guardate Chris Reddy Fielding Village Ma infatti A parte Chris Reddy Proprio Capcom Ultimamente Sta facendo Sta cosa Che prende Attori reali Per Col suo engine Il Re engine Quello nuovo E Sono molto più Caratterizzati I personaggi Di Capcom Degli ultimi giochi Capcom I vari Resident Evil L'ultimo Devil May Cry Rispetto Alla media Dei giochi giapponesi Quindi Anche i giochi Occidentali Quando non era Così diffuso Lo scan Proprio Degli attori Dei volti Mi ricordo Gears of War Che avevano Maschi e femmine Che erano uguali In altro po' Sì Quindi anche Una questione Di tecnologia Più che di stile Pure i comics Americani Avevano I personaggi Femmini Che erano uguali A quelli maschi Però con rossetto E tutto quanto Quindi Bene Bene Che si diffondono Queste tecnologie Infatti Uno dei primi Giochi Che fu Tra l'altro Un gioco giapponese Che ebbe un po' Di caratterizzazione Dei volti Di personaggio Fu proprio Onimusha Perché presero Proprio gli attori Scannerizzarono Anzi C'era Genaro e noi Non Onimusha C'era Genaro Nel terzo Ma già nel primo C'era Takeshi Kaneshiro Che userano Per fare il protagonista E si vedeva Proprio che c'avevano Puntato su questa Tecnologia Facciale Mi ricordo In particolare Che sgranava gli occhi E si vedeva Che poi poi C'erano andati Di finissimo Nelle animazioni Facciali Vediamo se C'è la chat Che dice qualcosa Se no andiamo avanti Anche Devil May Cry 5 Nessuno direi Che è bello Beh insomma Devil May Cry 5 Eh però dai Dante l'hanno fatto Proprio un vecchiaccio Sgradevole È diventato In Devil May Cry 5 Ma insomma Sono Cioè In Devil May Cry 5 Non ce n'è C'è nei giochi Capcom Non ce n'è Nessuno Che sia così Tra virgolette Particolare Come Aloy Magari non sono Quello perché È livello quasi caricaturale A un certo punto Perché pure Chris Visto che è Resident Evil 8 È super imbolsito Pare Bud Spencer È diventato Però È bello largo Proprio È diventato Come personaggio Oppure Lo capisci Che è un'interpretazione Capito del personaggio Dici ok Siamo andati avanti Lui adesso è diventato così E boom Ci sta come cosa Troppe misteri E qua fa strano Perché è una deformazione Del personaggio A cui era abituato Insomma Lì è proprio Un'altra interpretazione Secondo me Come ti dico Come il passaggio Proprio di Dante The Devil May Cry Che è un cambiamento Drastico Perché Dico Prima è super figo Il cappello così Nell'ultimo Uguale C'ha stai denti Un po' così Con la barbetta Spelacchiata È un po' particolare Infatti Dice anche Doctro Sembrerà Se cerchi anche Di farli invecchiare Un personaggio Ma Anche questa È una Una finta necessità Poi Cioè Potresti tirare Adesso io non lo so Se Temporalmente Quanto si svolge Quanto dopo Il primo rise Si svolge Per cui se questa È una reale necessità O meno Perché potresti Fa benissimo Un gioco dietro Ai peggio In Harry Potter Quando vedi Sti ragazzini Cazzo L'ho riguardati Che dal primo Al secondo Sembrano Il primo giorno D'asilo Al secondo Usciti da cert Cazzo Cazzo Cioè Va bene E Allora Qua avevo segnato Questa cosa Che è uscita Sul Sul Gruppo Facebook Di Calavera Caffè Podcast Avventure grafiche Un po' che non esce In realtà A meno che io Sappia Che hanno recuperato Sta recensione Di Monkey Island Il primo Monkey Island Versione Amiga Prese 75% Su computer E videogiochi Dell'epoca La versione italiana Di computer E videogames Famosa rivista Inglese Dell'epoca Ci sono state Un po' di polemiche Del recensore Che non capivo Un cazzo Perché è dato 75% Volevo dire due parole Però si comincia A fare tardi Quindi Farò un piccolo sfogo Sul canale Voci Di Telegram Stay tuned Telegram Voce Punto Freeplane Punto It Sì Matt L'ho scelta proprio io Con la recensione Scritta No volevo fare Un piccolo sfogo Più che altro Su quelli che Dicono Ah no Che schifo Computer Videogames E invece Games Machine Quella è proprio La roba Che mi Mi fa un attimo Chiudere la vena Ma Ne riparliamo Poi sul canale Voce Niente Visto che abbiamo Deciso E spero che Appreziate Chi ci sente Che adesso Freeplane È diventato Freeplane Slim Fast Passiamo subito Agli extra credits E io vorrei Iniziare Simone Hai visto che Non si è espresso Molto fino adesso Simone Facci un extra Allora Io Sono tornato al cinema Ragazzi È ripartito il cinema E Sono andato in questo cinema Che si chiama Si chiama Luxe Ma non è Il cinema Luxe È il tipo di cinema Nel senso che Ucicinema La catena francese Oltre ai cinema normali Fa questi cinema Che si chiamano Luxe Che sarebbe I cinema con Le poltrone Che ti puoi A sdraiare C'è proprio Il sotto Cioè si sdraiano E ti si alzano i piedi C'è il portapiedi Come si chiamano Non lo so Portapiedi 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 Poggia piedi Portapiedi Portapiedi Questo vizio Questo vizio Che c'hanno Non ho capito Perché Di mettere L'aria condizionata Delle temperature Delle temperature In vere conde Perché se no la gente puzza Se no la gente puzza Ero io No no Sembra È brutale A dirlo Però è così È per non far sudare la gente Simone è brutale Dirlo Fuzzavi Va bene L'abbiamo detto L'abbiamo detto Avanti E andando al film Diciamo che è la versione Dell'ultimo C'è una giornata di pioggia In New York È la versione Diciamo Moderna Potrai dire Perché Le dinamiche sono Più simili Però Si parla Dell'età adulta Quindi magari Un 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 Come si dice Menace a Trois Ecco Un trisom Che è un'altra cosa E Tra questo Praticamente Vabbè C'è una coppia Che va A un festival Che non so Se è un festival Vero o no Sembrerebbe Diciamo Un festival di Cannes Per farla Anche se Non è a Cannes È ambientato In un'altra parte Magari esiste veramente Quel festival Onestamente Non lo so dire No Non mi sembra Ok E Questa coppia Lei Lavora per un ufficio stampa E lui Invece è un Insegnante di cinema Uno che insegnava cinema All'università E che sta scrivendo Il romanzo della vita E vuole scrivere Il romanzo della vita Lei Già dal trailer Si capisce Che più o meno C'ha una simpatia Che non si sa bene Se sfocerà in qualcos'altro Per questo regista Che segue Come ufficio stampa Ma probabilmente Segue anche In altri posti Almeno così Sembra E quindi C'è la storia Di questo matrimonio Che Sembrerebbe Sfaldarsi E E Le considerazioni Che vengono fatte Da una parte E dall'altra Eccetera Quindi diciamo Che per certe cose È abbastanza simile A A quello precedente Come dicevo Woody Allen Non compare Fa solo Il regista Gli altri attori Orestamente Non me li ricordo Cioè non saprei dire i nomi Quindi Cercate Eccidina Gershon Che è sempre Super strafiga Mondiale Avrà 80 anni Sarebbe quella Super figa La moglie La moglie A me piace La più giovane Chiaramente Più giovane Però C'era sempre 30 anni È quei d'anea mia Più o meno E No forse Proprio piccola Però va bene E Visto come Si fidavano Il 5 novembre Il cinema Vabbè E Per cui C'è questa cosa Che c'ha Woody Allen Che Sembra sempre Che fa un film Che Almeno ultimamente Sembra sempre Che fa filmetti Poi dopo Vai a vedere Ah sì Ultima cosa Che aggiungo La cosa che mi è piaciuta È che tra l'altro Mi è piaciuta molto Perché Determinati film Li ho visti A cui si ispira Li ho visti Quest'anno Tra l'altro anno E quest'anno Quindi mi ha Fatto molto piacere Riconoscerli Ma dentro c'è Praticamente Durante il film Non è uno spoiler Mi dicono che Nuno lo fa spesso Ma io non lo sapevo Durante il film Lui mette degli inserti Rigirati Riadottati Da Dai attori Che ha Chiaramente Non Non gli originali Però per il resto Sono presi Praticamente uno a uno Di Film di Wells Quindi c'è Quarto Inizia proprio Con Rosamunda Inizia proprio con La palla La palla di vetro Che si rompe Proprio Il stesso inizio C'è Rosabella Rosabella Scusa Però mi sa Non so se è modificato Appunto Però vabbè E poi ci sta Un altro film Che non ho colto Poi ci sta Bergman Due film di Bergman C'è Fellini Insomma in mezzo Ci sono tutte queste cose Non vi dico A che punto del film C'è Christopher Waltz Che fa La parte della vita Proprio Cioè vabbè Comunque divertente Mi piaceva Quindi dicevo La cosa che c'è Anche l'Italia Che ho visto Anche il panorama Un po' In verità È stato anche Finanziato Però no Cioè a meno che Non hanno girato in Italia Senza dirlo Cioè forse Magari questo paese È stata una sdista mia No no Però ci sta Nella produzione Italo-francese Spagnola Una cosa del genere Quindi In qualche maniera L'Italia c'è Non so bene Dove Come e quando E E quindi dicevo Scusate Che Woody Allen Fa questa roba Ultimamente Io ne ho visti Ho visto Caffè Society Ho visto Gli ultimi tre L'ho visti Tre o quattro L'ho visti Al cinema Sempre Sembra sempre Che non ti sta Che sta girando Un filmettino Così Una commediola Così Poi alla fine Però i dialoghi Sono all'altezza Di quelli di Tarantino Chiaramente Con le dovute distanze Però sono Veramente Piacevoli De sentire Di direi Anche brillanti A parte In alcuni momenti Però vabbè E le luci So Perché lui Ha sempre Il suo Direttore La fotografia Che si porta In giro E che si vede Insomma Quello che combina Come va Sempre bravo Insomma È una roba Confessionata Molto bene È vero Che però Ti lascia sempre Questo sapore Che non hai capito Forse ci vogliono Più visioni Cioè Non succedono Le cose Ma non succedono Mai le cose Eclatanti Allora Non Ti viene da pensare Ma Il problema È Che non si vede Su schermo Una cosa Eclatante Ma si vede Vita vera Perché Molto Insomma È abbastanza Vita vera Oppure Oppure Il film scade Perché Cioè Nel senso La regia C'è La fotografia Ci sono tutti Elementi buoni Però Noi Aspetta Siamo sempre Legati alla storia La reazione Dei personaggi E cose così Non mi sono dato Una risposta A questa domanda E Insomma Va bene Andiamo avanti Così Ma forse Lui è anche un'età Per cui non vuole più Fare il film Che cambia la vita Ma vuole semplicemente Fare una roba Tranquilla Col suo mestiere Che poi Ovviamente C'è il suo mestiere Perché alla fine C'è Secondo me Pure questa cosa Che c'è Ogni film O deve essere Il super intrattenimento Oppure ti deve Cambiare la vita Magari a volte Esistono delle storie Che semplicemente Si raccontano E basta Senza Troppe Infatti è quello Però senti sempre Parlare Io Diciamo Ho lanciato la provocazione Nel senso Che ne pensiamo Perché io Alla fine Sono stato soddisfatto Di quello che ho visto Tutto sommato Perché poi mi ha fatto anche Cioè mi ha anche coinvolto Un po' In maniera Emozionale In maniera Cioè comunque Sono stato coinvolto Da quello che accadeva Non è che diceva Beh tu palle E poi c'ha due Tre Come sempre fa lui C'ha due Tre tocchi Io dico Tre giure Vabbè Comunque due tre tocchi Belli da vedere Belli da Da sentire Belli proprio È bello Vedere al cinema Anche così Poi appunto Era un po' Un ritorno Quindi insomma È uno dei motivi Per cui tornare al cinema Che io dico sempre Di supportare E ve lo dico Anche Anche questa volta Senti ma sto cinema A livello di Covid Precauzioni Cose Com'era? E ti puoi mettere Solo a Tre o quattro Posti di distanza Però io Avendoci la sala A disposizione Praticamente Ti prendono La temperatura Ti prendono Nome Cognome Telefono Nel caso Di pandemia E poi Ti siedi Con la distanza Di Non mi ricordo Se quattro posti Addirittura Insomma C'è veramente Eh non mi ricordo Se tre o quattro Perché non essendoci Nessuno accanto Però quando Quando prenotavi Ti fa mettere Due vicini Con scritto Che sei congiunto Chiaramente Tu lo dichiari Con nome Cognome Telefono Eccetera Lo dichiari tu Però Altrimenti Che è un po' Una cabola Questa Però è vero pure Che se vai al cinema Non è che tu prendi Due posti E poi tu sconosciuti Mi mettete vicini Quindi insomma Vabbè Però Sì sì Non mi ricordo Se addirittura Quattro posti O tre Mirko Non mi ricordo Però insomma A quel cinema Quattro posti Sono tanti Perché c'hai Il braccioio Da tutte e due Le parti Sì sì Poi c'hai il tavolinetto Reclinabile Ecco Reclinabili Reclinabili Si chiamano le poltrone Insomma Stai proprio sdraiato A vedere il film Insomma Il porta schiena Il porta schiena Esatto Devo dire che Se non fosse stato Per l'aria condizione Ho fatto come i vecchi Poi all'uscita Tutto a posto E messo la maglia Ha fatto l'unica cosa Però l'aria condizione Aveva farti morire Adesso Adesso lo dico In direzione Tu pensa Quella che Immagina Se quella c'è andata In direzione Adesso lo scrivo Sulla mia macchina Deo scrivi invisibili Scrivi invisibili Esatto Vabbè basta Non c'ho altro Perché se c'essi altro Non lo sarei ricordato Quindi Sesto potere Il podcast Di Filippo No sto scherzando E Basta Vabbè in caso Se ti ricordi dopo Facciamo un altro giretto E Fabio Allora Scegliete Tra La demo Di Scarlet Nexus O Due manga Scarlet Nexus Io sto curioso Scarlet Scarlet Jones Allora È Nuovo Scarlet Jones Aspetta Oddio Quali sono i manga Di me Blue period E Bacche Monogatari No vai Con Scarlet Vado con Scarlet Ah Ho comprato pure Asadora Però Ancora lo legge Eccolo nuovo D'Urasawa E Vabbè E però Che esce tutto Per recuperare Ma già morti Lo so Allora Scarlet Nessus È il gioco nuovo Di Namco Bandai Credo che dietro Ci siano le stesse Persone che hanno fatto Codvein Non ne so sicuro Questa cosa Ma me lo ricorda In tante cose Ed è un A differenza De Codvein Che appunto Prendeva E Rob In Un Action Puro Molto Diciamo Di ispirazione Ai giochi Platinum Tant'è che Somiglia anche Tanto A Astral Chain a livello dell'ambientazione invece ricorda anche questo qua sempre Code Vein perché è sempre molto urbano, città mezze distrutte quasi dei relitti urbani, i mostri un po' strani delle forme molto particolari, insomma ricorda un po' quel tipo di design là la demo è uscita sia su Playstation 5, credo anche sulla 4, sia su Xbox quindi Mirko puoi scaricarla Sì sì, infatti ho visto che c'era e per quello ti chiedevo Ok, e ti permette di giocare due parti diverse del gioco nei panni dei due protagonisti, uno maschile e uno femminile che sono molto diversi a livello di gameplay perché il protagonista maschile ha la spada e la protagonista femminile ha una sorta di pugnali volanti come se fosse un'arma quasi a distanza Allora, è interessante nel senso che hanno messo questo stile di combattimento super dinamico pieno di quick time events, pieno di combinazioni di tasti perché i protagonisti sono telecinetici quindi mentre Mieni fai le combo normali con le armi puoi prendere gli oggetti da una parte e dall'altra del livello e tirarli addosso al nido e questo ti permette è più automatica come cosa cioè Control, comunque tu miri e spari l'oggetto che raccogli invece qua, mentre tu proprio fai la combo tieni premuto R2 o il tasto per Xbox e quello automaticamente prende una roba e la scaraventa addosso questo ovviamente poi ti permette di fare altre combo sempre corpo a corpo che combinano appunto i poteri telecinetici con quelli diciamo un po' più di combattimento fisico e nel momento in cui azeri una barra all'avversario che è sotto l'energia ti permette di fare un quick time event che uccide direttamente l'avversario a questo poi si collega anche altre robe che trovi nel livello per esempio degli oggetti speciali che tu muovi con L2 quindi con un altro tasto che a loro volta hanno un altro quick time event quindi è molto complesso come stile di combattimento e in più tu hai una squadra di quattro personaggi che ti puoi attivare presso ognuno di loro ha dei superpoteri cioè tu sei quello con la telecinese gli altri hanno, ne so, l'armatura diventi più resistente o l'arma di fuoco, il teletrasporto eccetera eccetera e poi prendere in presso i tuoi poteri dagli altri quattro che ti porti al presso quindi in realtà il gioco in una mezz'oretta che dura la demo ti dà un botto di roba da falli di combattimento ed è interessante, è molto molto piacevole il mio dubbio sorge nel momento in cui tu già dall'inizio c'hai tutte queste possibilità di combattimento non vedo però come si possa evolvere poi nel corso del gioco poi è una cosa che un po' mi preoccupa anche perché secondo me era il grande problema di Code Vein che partiva bene dopo che si appiattiva totalmente perché il level design non era assolutamente al livello dei migliori souls like dei Dark Souls il gioco rimaneva più o meno lo stesso per tutta la durata e dopo un po' ti mancava la voglia di e questo temo che ci abbia un po' lo stesso problema poi ovviamente ho giocato talmente poco che non lo so a livello storia mi sembra la solita roba un po' random loro un po' poco interessante anche qua a livello di Code Vein che secondo me era una rottura di coglioni immensa tutta la parte narrata narrativa era una palla incredibile ecco hanno tolto tutta la possibilità di personalizzazione nella creazione del personaggio quindi non hai l'editor c'hai questi due protagonisti e basta credo che l'abbiano fatto anche per dargli una maggiore caratterizzazione sono doppiati quindi hanno deciso loro insomma a priori c'è ovviamente l'albero delle skill sulle opzioni in tutto sblocchi tutte le varie skill per aumentare i colpi delle combo per fare i colpi più forti super mosse eccetera eccetera e mi sembra che sia abbastanza profondo anche per quanto riguarda la personalizzazione del vestiario perché hai oltre l'equipaggiamento un'altra scheda dedicata solo ai costumi quindi alle maschere o ai giubbotti o tutta sta roba qua graficamente è bello senza essere secondo me sconvolgente però su PlayStation 5 gira 60 frame per secondo è molto figo da vedere per quanto secondo me non dà il meglio per quanto riguarda le ambientazioni cioè non mi hanno veramente stupito da quello che ho visto è proprio brutto come un po' di vedere sì il character design dei personaggi è sempre bellino è sempre quello anime diciamo che secondo me dal punto di vista di personalità Astral Chain l'ultimo di Platinum era più interessante mentre qua veramente so abbastanza piatte tutte le ambientazioni da quel poco ho visto sempre nella demo non mi sembrano particolarmente interessanti però insomma la demo è carina ti permette comunque di vedere due parti abbastanza corpose c'è il boss alla fine con tanto di quick time event pure quello là per ucciderlo grado di difficoltà abbastanza bassino insomma tante cose ma tutte subito e secondo me è un po' un problema nel lungo periodo ma non è che magari la demo è un pezzo avanzato del gioco considera che all'interno ti fa tutti i tutorial quindi quando tu avanzi ti dice se vuoi usare questo potere usa questo vuoi usare quell'altro potere adesso che devi affrontare quel nemico usa quel potere quindi non credo che sia una parte tanto avanzata anche a livello insomma di quello che succede nelle cutscene però ecco magari poi è sorprendente riesce a aggiungere livelli su livelli strati su strati però devo dire al netto della demo non so se lo prendo al day one segnatevi queste parole non so ho detto infatti non dico più no mi interessava perché in realtà poi è un periodo un po' scarico quindi era l'unica uscita potenzialmente figa prima dell'estate vediamo insomma ragazzi non ho detto no ho detto non so può darsi sì va bene e esce chiedono a chat quando esce fine giugno mi sembra a 29 ok va bene e Alessio allora a proposito di ritorni al cinema io sono tornato a proseguire la mia maratona di film anni 80 da recuperare grande non esattamente dall'anni 80 del 76 il primo Rocky ho visto oh ti dovi dire Rocky 4 Rocky 4 che bello devo dire devo dire che su su Schwarz sono sempre un po' ironico perché quella roba che è così fuori dalle righe che mi fa sempre un po' ridere no anche quando fanno i film un po' più seri questo è stata una sorpresa solo fuori e solo le righe scusami fuori bravo le righe ma eh raga io sono a malapena in questo momento vabbè comunque veramente Rocky è stata una sorpresa a tutto tondo l'ho recuperato da Apple TV quindi me lo sono goduto anche in un'ottima qualità per essere un film comunque del 76 non so se l'hanno rimasterizzato cosa hanno fatto ma capito se la fa Apple TV è massima qualità sì esatto no no su Prime invece è 240p eh non ti preoccupa se c'era su Prime ho guardato già su Jack's Watch non c'era è pazienza dove l'ho visto secondo te scusi ehi Svizzera te c'hai agganci è per quella allora sì ok allora capisco vabbè c'è De Benzo che scrive a proposito di Scarlett Nexus se non lo prende manco Fabio chiudono lo studio poi a proposito di Rocky che stai diventando un uomo Nessio stai eh modestamente finalmente no beh allora ci sono tante cose che che mi hanno stupito innanzitutto vabbè io avevo l'unica roba che non mi ha fatto arrivare completamente vergine questo film che io non avevo mai visto è stata che in passato avevo letto qualche cosa sui dietro le quinte diciamo di di Stallone che effettivamente aveva messo giù il soggetto in parte autobiografico no su questo un pugile nel suo caso attore che non riusciva a sfondare non aveva mai sfondato e per cui vi bacchiava la storia che lui c'era c'era sto cane c'era venduto il cane addirittura per sopravvivere no perché non c'era soldi per mangiare lui figuriamoci darli al cane eccetera e questo è quello che sapevo alla fine poi del resto non sapevo veramente niente di niente per cui è stata una sorpresa tutto tondo perché è un film molto bello molto come il film neorealista italiano degli anni 60 che racconta questa vita di periferia di strada tra l'altro tutta di gente brutta a proposito dell'argomento della puntata lui la ragazza che gli piace la famosa Adriana l'amico sono tutti degli sfigati proprio di quelli da brave persone di periferia che magari vivacchiano al limite della criminalità perché alla fine lui fa un po' lo spezza pollici della criminalità di questo mezzo mafioso italiano che non viene mai ritratto come effettivamente criminale mafioso buono quelle che tengono in ordine in quartiere però c'è questo sottotesto però non scende mai nel raccontare se c'è una criminalità e e lui ha fatto questa vita in cui voleva fare il pugile voleva sfondare facendo il pugile però gli è andata male c'è il fatto che lui è mancino per cui veniva mal visto per una cosa per un'altra non ha mai sfondato e per puro caso per l'arbitrarietà del fatto che questo Apollo Creed decide di ah faccio mi faccio sfidare dall'ultimo degli strozzi di periferia perché è una storia molto americana l'America è stata scoperta dagli italiani e quindi combatterò contro lo stallone italiano tutta la parte di Apollo Creed è ridicola per quanto è in maniera come dire affettuosa lo chiamo ridico per quanto lui è un pupazzo questo personaggio lo chiamano così è un pagliaccio non so Alessio se lo sai che la storia vera che tra le varie cose che hai recuperato è che effettivamente c'è stato un pugile che sfidò Muhammad Ali si chiamava Chuck Webner e stallone vide questo incontro e questo pugile riuscì a mettere al tappeto Ali nonostante fosse l'ultimo degli sfigati grande Ali principio Ali in realtà era sconosciuto si si era un pugile sconosciuto sconosciutissimo e misi al tappeto poi vinci a lì se non ricordo male però comunque lui lo riesce a mettere al tappeto e stallone vedendo sta roba gli viene l'ispirazione per per tutto l'incontro e tra l'altro mi pare anche questa roba è molto bella perché il combattimento con lui alla fine è onesto quasi cioè nel senso fa vedere che Rocky punta tanto a resistere che è la cosa che lui proprio dice a un certo punto dice il massimo che mi può andare bene è che resisto ad arrivare alla fine che non mi manda che in coma infatti quella roba ultra plateale romanzata che ti sa che fino all'ultimo so testa a testa no no cioè le prende dall'inizio alla fine lui lo dice a Adriano a me non me ne importa e vince voglio solo dimostrare che non so che non sono l'ultimo degli stronzi di periferia che poi considerate che quella lì è considerata la sceneggiatura perfetta da Lude cioè perfetta che c'è tutto c'è tutto il ciclo perfetto narrativo dei personaggi ah giusto sì esatto ed è stata utilizzata per diverso tempo come proprio standard per poi sistemare le scegliature di altri film sulla base di quella Alessio ma l'hai visto in italiano e in inglese l'ho visto in italiano hai dei problemi Alessio hai problemi no io amo io amo moltissimo e che cazzo aspettiamo moltissimo il doppiaggio italiano di questi film vecchi infatti l'ho visto il miglior italiano possibile grazie a Apple esatto tra l'altro tra l'altro sì sì Peppo però non legge Ale per spoilerando mi è cascato l'occhio grazie grazie Peppo grazie tra l'altro gran film pure il 2 vedilo perché è bellissimo Alessio ma chiaramente l'idea Alessio vedrai che quando arriverai al 4 dirai ma sì ho messo il primo il secondo il terzo il terzo già che c'è Mr. T già incominciare già il quarto il terzo c'è il dialogo di Mr. T il terzo c'è il dialogo di Mr. T quando svelano la statua di Rocky arriva lui arriva Mr. T e fa ehi donna lo vuoi un vero uomo per farti sentire la cosa questa cosa mi avvilisce mi preoccupa molto perché se il primo è una partenza così chissà poi va a finire che fa come Fantozzi ma sì ma come dicevano anche quelli dei 400 calci è una saga che rispecchia l'attore al 100% perché il primo rispecchia lui quando ancora stava diciamo cercando di sfondare eccetera eccetera il secondo nel secondo c'è lui che da pugile che nessuno conosceva è diventato famoso e si prende la rivincita come lui da attore che nessuno conosceva il terzo eccetera eccetera tipo Faralessio scusa anche lui io sono resistito fino adesso ho visto uno mi stanno rovinando tutti esatto e qui a circo gli dici l'inizio gli bruci il finale esatto e chiedete a Benzo Rambo primo Rambo bellissimo no no se tu l'hai visto qualche Rambo non l'ho visto non l'ho mai visto non l'ho mai visto neanche io uno di Rambo ma come cazzo è possibile te lo giuro cazzo di universo avete vissuto allora con Rocky mi son distratto e non l'ho detto anche io poi l'ho detto dopo che non l'avevo visto anche io Rambo adesso non l'ho visto comunque io ragazzi Rocky si li ho visti adesso io ho realizzato che andai a vedere Indiana Jones e l'ultima crociata a sette anni al cinema e non te lo ricordavi Terminator 2 a nove anni no no sempre nel senso che questi film cioè mi hanno trasformato in un uomo senza sentimenti e quindi il fatto che voi siete arrivati a 40 senza averli visti avete avuto una vita molto più ricca della mia dal lato emotivo scusa hai visto l'ultima crociata e che cos'altro è Terminator 2 ah Terminator 2 cioè l'ultima crociata c'è la faccia del tizio che si scioglie proprio sì sì no l'ultima crociata no è quello con padre l'ultima crociata c'è il nazista che beve dal sacro grado tanto che non l'avrà visto nessuno quindi lo spoiler no no questo è un bambino per caso quando è l'arca dell'alleanza e si no sì quello è quello che invecchia quello è ancora più spaventoso però l'arca dell'alleanza perché c'è l'altro invece si rinzecchisce senti Ale ma Terminator 2 l'hai visto? sì sì terminato l'ho visto anche quelli tardi scusa Svarsenegro ho visto tutto cazzo quindi mi compenso con quello pure una promessa è una promessa anche il puliziotto l'alimentare il puliziotto l'alimentare è figo è il momento del turbo senti Ale ma Commando invece non mi ricordo l'avevi visto sì quello che abbiamo parlato è quello che lo sta trasformando nell'uomo che oggi Commando mi sa il primo film di sparsi di quelli che mi hai consigliato qua Bru non dire niente perché so dove abiti sono tre ore di distanza da te quindi devo solo dire tante parole d'amore per il primo Rocky adesso le ho dette diciamo che la chicca che possiamo aggiungere è che chiaramente capisci già a metà film che sarà un capolavoro del cinema intoccabile quando lui va a provarci con Adriana al negozio di animali e stanno lì a cazzeggiare con le cocorite e lì vabbè è emozionato quello quando vedi uccelli in tv tutte emozioni si fa una battutona che gli ha messo il dito guardate ecco il verbo è gigante esatto in lingua originale cioè si toglie il paradenti e parla si mette il paradenti e parla in italiano è nobilitato in italiano si capisce in inglese è questo il titolo perché cioè allucina sembra Pippo sembra Pippo con la lingua con la lingua i Rocky hanno preso veramente tutta la scalinata tutta quella parte lì che è l'unica parte bella di Philadelphia il resto della città è orribile mamma mia cioè infatti mi ricordo arrivi lì da questa c'è proprio la scalinata bellissima con tutta la gente ed è piena di gente che corre sullo scalinato ma c'è non è una cosa che non ce la fai a resist è micidiale poi fai due isolati ed è veramente il terzo mondo altrimenti beh bisogna dire che comunque Rocky fa tutto per farti vedere che è già il terzo mondo voglia di vedere il 70 sì sì tutta la periferia ok va bene consigliatissimo mamma consigliato Rocky 1 chi c'è ancora Matteo sì allora io ho visto l'ultimo film live action della Disney Crudelia ma è sempre l'ultimo film Matteo sei sempre sul pezzo vai vai dici che hai in serie è protagonista della serie della serie del film è la famosa antagonista della carica del 101 Crudelia Deville mi sembra Demon da noi da noi mi chiamano Deville ora chiamano Deville anche in italiano infatti anche mi ricordavo Deville quindi adesso è fottuta la canzone sua Crudelia Deville farebbe vaura in inglese era uguale ma c'era un'altra riva un cocodril e poi in originale era Crudelia fuori di testa ah sì sì fuori di testa ma diversa da noi comunque questo non è proprio un remake tipo che ne so il re leone o aladin tipo è più una sola falsa rega di come si chiama o quell'altro malefica malefica maleficent sì the origins sì è un origin story di Crudelia che non la fanno così cattiva come era nella carica di 101 alla fine che magari perché c'è una cattiva ancora più cattiva ma comunque c'è la cattiva cattivissima che la fa diventare cattiva durante la produzione di questo film non sono stati fatti non è stato fatto male alcun cane quindi ma io non ne vedo sì e questo ti riempie di tristezza volevi che facessero del male ah no eccoli qua non mi sembra sia un po' più il prequel della carica di 101 ma qualcosa di diverso è praticamente Joker dai infatti dal thriller mi è sembrato un misto tra Joker Joker e il e il Diavolo Veste Prada sì sì io ho detto ma a un certo punto ho detto ma che sta diventando il Diavolo Veste Prada ok due grandi film vogliamo dirlo due grandi film uno sì l'altro è un grande film il Diavolo Veste Prada io non ho ancora capito no è una merda è solo una consagrazione di Meryl Streep come se ce ne fosse bisogno Meryl Streep viene la cattiva lì la sì sì il Diavolo Prada Prada eh quanto è dura Matteo per curiosità due ore mamma mia ma che non gli avrei da due ore scusa la storia di Crudelia di Villa demon come cazzo si ormai è piacevole Matte è piacevole sì non è un capolavoro però si lascia è brava è molto è brava più che altro si fa hanno origin story del fatto che magari c'è la madre che gli dice Emanov deve essere brava e c'è questo diciamo seconda personalità che è crudele che esce quando vuole fare un po' la pazza scusa c'è il chat c'è Jerry Galashnikov che dice comunque il fatto che i cattivi non devono essere più cattivi per la Disney non lo capisco il prossimo quale sarà una rivisitazione sulla vita di Hitler è secondo me perché ormai va l'antieroe la fanno da un sacco di anni quella è più interessante della storia del marito del padrone dei cani si però di trovare sempre la giustificazione perché uno è stronzo cioè uno può essere stronzo pure perché è stronzo senza che prima aveva il capo che gli faceva le vessazioni o tutti lo prendevano in giro come Joker cioè Joker può essere stronzo pure perché era stronzo senza dover per forza no ma io poi di stupidino devi chiamare stronzo io che altro ma come si faceva l'insermare gli antichi oh scusa scusa Matteo oh dicevi Matteo sto facendo extra credit eh vai vai perdona dicevo da come l'ho vista io non è che lei diventa cattiva perché la spingono è più che altro che la suonatura che all'inizio la cerca di reprimere nel senso quindi lei è cattiva eh ma vedi Fabio rompi tanti coglioni e poi da come l'ho vista io poi non è cattiva come nella carica di 101 alla fine non è che vuole spellare canini e farci una pelliccia nel senso è più una che lei è una stronza gli piace far essere stronza sì e più che altro la presidente il diavolo veste prada è più come sì come si chiamava la vecchia Mary Striep Mary Striep sì unire la vecchia dunque non è che va a ammazzare la gente in giro così così però cosa che fa l'antagonista vorrei ammazzare certo cani no ma nel film non lo fa ah no no è quello che ti voglio dire ci sta che Emma Stone che sembra un carlino si occupi di cani ora che ci penso comunque non è un capolavoro però se lo avete gratis da qualche parte guardatelo senti ma lei si chiama proprio Cruella di nome un nome proprio no no il suo nome è Estelle Estelle e poi chiamo no perché sennò faccio con me quella roba super simpatica di Malefica che lei è la fata buona che si chiama Malefica ma allora c'è qualcosa che non va a capire cioè i tuoi genitori perché nella lingua delle fate buone Malefica significa una cosa tipo no no più che altro è il nome della seconda personalità Cruella che è la madre che non che dà il nome a questa seconda no più che altro la parte pazza la parte ribelle più che altro Cruella sarebbe la parte ribelle e Estelle sarebbe la parte quella lì che cerca di essere normale seguire le regole cose così non so se mi sono spiegato sì 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 pensavo a chi può essere rivolto a sto film ma secondo me la solita storia un po' Disney no delle ragazze che devono imparare a essere se stesse ma anche poi le ragazze in realtà è tutta la morale di tutti i film Disney un po' sempre quello no che se sei te stesso vinci tutto l'importante è essere te stesso e e ovviamente è sempre quel messaggio un po' superficiale perché se sei te stesso sì però se sei Emma Stone puoi essere te stesso se sei te stesso che sei la persona che poi era anche la morale di Rocky però Rocky insomma faceva vedere che sei te stesso però il massimo che puoi a cui puoi aspirare è prendere mazzate e sopravvivere mentre se sei te stesso Emma Stone Crudelia Demon come si chiama sei te stesso e diventi Crudelia Demon quindi sì poi alla fine del film c'è il rimando alla carica di 101 però non so se vorranno fare un sequel anche perché con questa Crudelia non penso possano fare il remake della carica di 101 ma non ho già fatto il live action della carica di 101 no? sì sì ma era una cosa nel senso se vogliono fare il sequel di questo film non penso che vorranno fare un rifacimento uno a uno della carica di 101 boh dicevo questo faranno qualcosa di diverso anche io me l'ho fatto con il sequel di Malefica come cosa così e niente finito sì Disney si sta un po' autofagocitando ultimamente con tutti questi live action remake evidentemente sta sta sfruttando l'onda lunga di tutti i bambini che ha concupito da piccoli con i cartoni animati adesso gli rivende le versioni live action vabbè chi manca Fabio Stefano e poi c'è allora allora ho finito Grandia due anche finito i due Grandia però non abbiamo visto la foto eh l'ho mandata a Fabio ecco qua l'ho mandata a Fabio con tanto di cazzo sono stato bravo perché ero indeciso se mandargli proprio tipo la switch appoggiata sul cazzo eccetera poi ho detto vabbè dai facciamo sì ma coperto quindi comunque visto la foto e niente cosa 19 years ago è proprio quando l'hai iniziato tu tra l'altro sì sì esatto questo trailer no allora devo dire che questo Grandia mi è piaciuto meno del primo per certe cose ma più per altre in linea di massimo ho preferito il primo hanno sistemato delle delle cose nel gameplay e nella gestione dei personaggi che erano davvero odiose ad esempio il fatto che quando andasse via un personaggio dovevi riassegnare tutta una serie di punti le magie era una natura di palle allucinante ma in altri casi hanno reso peggiore la gestione stessa del ad esempio dell'equipaggiamento e cose così insomma hanno migliorato certe cose e ne hanno peggiorato delle altre e sinceramente appunto non è che mi abbia fatto impazzire la storia poi personalmente ho preferito quella del primo che era più puntata sull'avventura sul fatto che ci fosse un po' che succede è tutto ok vai vai staccando la vita ok eh sì sì ah no ok ok mentre invece qui era molto più lineare molto più classica cosa il bene contro il male e sembra praticamente che si siano dimenticati tutto quello che c'è stato nel nel primo gioco io mi aspettavo non dico una continuazione ma almeno la stessa ambientazione invece è proprio una questione diversa è come se le ambientazioni del primo fossero state dimenticate al 90% cioè c'è qualche richiamo ogni tanto ma è tutta un'altra cosa la grafica 3D non è male è uscito periodo periodo Dreamcast migliore console di sempre però con la grafica con l'appunto lo smoothing delle texture devo dire che tutto sommato si sono se la sono cavata bene i filmati cioè facevano erano molto meglio quelli del del primo i filmati in FMV questi del secondo sono davvero imbarazzanti proprio qualità orribile scalati male non lo so insomma ho avuto un po' più difficoltà rispetto al primo che invece ho finito con più felicità questo un po' devo dire che alla fine cioè stavo davvero arrancando arranchia arranchia sì scusa Stefano volevo dare il benvenuto a Gaetanos92 che si è appena iscritto ciao tutti i tuoi ascoltatori qui su te c'erano dei nick geniali che noi ce li saremmo mai sognati guarda ci strozzi con nomi stupidi siamo noi sì mi chiamo Stefan il mio nick c'è Stefano cioè queste cose qua vabbè comunque insomma quindi alla fine anche questo l'ho finito sempre una trentina di ore circa andando con calma facendo tutte le cose non c'è un'esplorazione non è un open world quindi alla fine ti sposti nei vari punti e vai avanti così puoi tornare un po' indietro ma non c'è quella cosa che c'è molti jrpg di ritornare magari nelle vecchie zone e spaccare il culo ai passeri a quelli che prima ti avevano spaccato il culo qui invece vai avanti sei più potente l'ho trovato molto più semplice rispetto al primo dove certi combattimenti li ho dovuti fare tre quattro volte dovuto cercare un po' come battere il boss e così via qui invece forse ho perso una volta contro un boss e poi per il resto cioè li ho tutti battuti al primo colpo praticamente e senza fare grinding senza fare nulla ti ho fatto nel finale tipo Shinji alla fine dell'Evangelion congratulazioni no beh l'hai visto il finale più o meno cioè c'è una specie di come si dice di bel finale di lieto fine ecco il bel finale di lieto fine e il bel finale il bel finale è un titolo meraviglioso è un bel paese c'è una lingua tutta sua il portapiedi il bel finale ma allora allora io parlo tre lingue malissime cioè proprio prima un po' razzentavo l'italiano adesso ormai tutto cioè tre lingue è male tutto a cazzo cioè proprio così ma Simone vive in Italia dovrebbe parlarlo bene l'italiano in teoria il bel faccio quello che posso io sono di Roma ricordati ah in effetti sì non è che sia da un certo punto in giù non è più Italia mi insegni quindi ok vabbè comunque studi pure all'università cioè dovresti essere parli parli come a me che parlo come boss vabbè comunque eh e niente no quindi dopo questo bel finale dopo questo bel finale non ti lascia boh sì carino piacevole ma l'uno l'ho trovato decisamente meglio eh grande delusione appunto questa roba qui che è stata del fatto che si è abbandonato tutta la grande delusione di prima come? grande delusione grande delusione esatto tutta la roba di prima e quindi sinceramente non mi sento neanche troppo invogliato a proseguire a cercare gli altri titoli ah perché c'è un tre? eh c'è un tre c'è un quattro e c'è anche un grandia extreme che è uno spin off e ce n'è anche uno per gameboy advance tipo una cosa così e se li gioca tutti no 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 ecco no 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 non ho nessuna intenzione ecco dico subito che questo il fatto che mi abbiano incasinato così tutta l'ambientazione fottendosene di quella che c'era prima mi ha riempito di tristezza e quindi basta cioè questi qui l'ho comprata Stefano ma stai facendo un lipster che ah il primo era meglio no il primo era meglio nel senso il primo era meglio per altre cose e peggio per altre come ho detto ho detto prima il problema è che eh? Reich stiamo parlando del primo Reich ah sì esatto il terzo resta il mio preferito ok Simone mi sembrare capito eh dove dicevano quelle frasi che ha detto Simone l'altro episodio l'altro appuntano le scrivevano gli ingressi comunque eh mentre invece appunto quello che mi ha deluso è il fatto che ci sia appunto questa dimenticanza di tutto il mondo che era molto interessante quello del primo questo del secondo è abbastanza banale eh quindi boh mi è passata la voglia di fare la la follia di proseguire giocare al terzo al quarto cose così proprio non lo so cambiano così tanto magari il terzo è meglio ne siamo tutti grandi a due esatto adesso sto pensando allora potrei o fare un tentativo magari usare Moonlight con la Playstation Vita e giocarci dalla Playstation Vita ma streamandolo dal PC con l'emulatore perché allora giocare a giro e PG da console seduto eccetera mi rompo i coglioni ormai mi rompo i coglioni quindi con la portatile almeno vado in giro gioco un po' a letto al cesso capito queste cose vado in giro sarebbe il cesso e il letto vado in giro per casa dico poi fuori se no mi metto col portatile fuori nello zaino che streama capito e poi la Playstation Vita comodissima 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 no purtroppo non ci sono questi titoli non sono disponibili anche se sono usciti per Playstation 2 ma Sony si sa che piuttosto che guadagnare dei soldi dai pirla come me che li ricomprerebbero preferisce utilizzare la pirateria eccetera eccetera è troppo comodo così fare come Nintendo che fa i miliardi vendendoti Metroid 1 per 30 volte su ogni console troppo intelligente come cosa si è vero Sony sceglie questa via stoica di dire no io col cazzo che ve li ridò ve li siete giocati vent'anni si si adesso basta basta staccate col passato la Playstation 4 cioè supporta ha pure il supporto per Playstation 2 per Playstation 1 e per PSP dentro ma con moderazione esatto no no ce l'ha ma o te la modifichi eccetera eccetera allora puoi accedere se no di base Sony ti dà a disposizione tipo 3-4 titoli è finito lì Playstation V vabbè niente no no facciamo questo discorso lasciamo stare è un discorso da retrocast questo ma sta uscendo sta montando la nuova diretta sì no ho registrato devo montarlo e ho parlato anche di questa cosa qui infatti no no il mio discorso era la sua Playstation Vita che sarebbe potuta essere utilizzata meglio sui giochi della Playstation 2 visto che ci girano quindi che non vengono a dirmi stronzate così comunque Mythic Ludus aka Ludothorn che quei porchi vogliono che te lo rigiochi a prezzo pieno ma me lo rigioco dove vogliono allora se io voglio giocare a un gioco a Playstation 2 tipo appunto voglio giocare a grandi A3 l'unico modo è prendermi una Playstation 2 e giocarci allo stato attuale oppure emularlo e giocarci emulato ora io ce l'ho la Playstation 2 lo posso anche prendere a grandi A3 ma mi sembra assurdo che sono uscite 30 console dopo e hai l'emulatore a disposizione non ci puoi infilare un cacchio di gioco della Playstation 2 che non devi neanche cioè ancora c'hanno i pidi piatti nei giochi e prendi pure i giochi di PlayStation 2 ma dico e lascia sti pidi piatti e fammi cagami fuori sti giochi te li prendo cioè li ripago grandi HD gliel'ho pagato gliel'ho comprato a prezzo no vabbè era un po' ribassato visto che non è appena uscito però 30 euro gli ho dato forse per quello che non fanno tra l'altro ci chiedono ci chiedono in chat sai dove li puoi comprare i giochi vecchi occhiolino occhiolino oddio staccati no lo so lo sai o non lo sai no non lo so dove li posso comprare da Benzo Market sui bini tutti provati verificati scatolati vabbè allora ecco ad esempio qui ne li prendi da Benzo li prendi eccetera eccetera ma io purtroppo non posso infilare infilare questi bei giochi nella mia console portatile non si può fare e questo mi dà molto fastidio e niente tutto qua diciamo che la cosa principale è quella per il resto boh mi sto riguardando a run ma cose così in lingua originale stavolta e niente è tutto molto bello però ecco ho finito a grandia non rompete più i coglioni sì Carmine veramente Benzo negozi B lo trovi su freeplane.it se vai sulla destra la colonia di destra c'è anche il link con il mitico Stan di Monkey Island che fa da Avatar va bene abbiamo parlato abbiamo parlato tutti Mirko tu l'hai fatto extra credit? no ma dai ho parlato prima tu prima un pezzo va bene poi tanto parlerei solo di Destiny ragazzi ok l'hai rientrato va bene manco io c'ho niente perché sti giorni non c'ho niente quindi andiamo in chiusura ragazzi come al solito la morale è sempre quella fate merenda con Girella e poi andate su freeplane.it iscrivetevi andate su iTunes metteteci un bel mi piace e ve li ricordate le recensioni sui iTunes non ce li state più lasciando proprio adesso che tra l'altro Apple dice che vuole fare i podcast a pagamento noi ovviamente saremo là in prima fila per farvi fare abbonamenti cose sappiate che se volete separarvi dei vostri soldi freeplane vi da sempre una mano e detto ciò io sono stato Bruno con me c'è stato Simone ciao Simone ciao ragazzi sono qui e Matteo ciao e Alessio ciao Fabio ciao Mirko ciao ragazzi ciao a tutti e Stefano ciao Bruno grazie per essere su ciao 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 allora ragazzi chi volesse fare due chiacchiere post puntata discord.freeplane.it ma prima dobbiamo trovare chi fare il ride andiamo a vedere chi c'è 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 un errore c'è un errore ci sono i beceri allora avete rotto il cazzo uno con il errore e due con i beceri ma stasera vediamo un po' chi c'è stasera vorrei puntare a un canale grande prestigioso tipo Dario Moch purtroppo è offline Dario Moch è Varsport dice offline no Varsport dice con Vito allora Twitch Varsport c'è Vito dai è un po' parliamo di videogiochi no Varsport parliamo di videogiochi no vediamo che sta facendo parliamo di videogiochi però Dario Moch è online il nostro amico che sta sparando pronto per cambiare dopo poi se ci arriviamo noi pensano che ci sono i bot è un casino qui ci sono i bot ragazzi sì sì EveryEye stanno sparando Gianandrea Orion chi è Gianandrea Orion saluto a Gianandrea Orion vabbè andiamo da Twitch Varsport da Vito Sport oh ecco che praticamente è il seguito di Monica Sport chi se la ricorda sì Monica Monica Sport da quando ragazzi salutate salutate portate la la carezza di FreePlaying ciao a Vito ciao tante belle cose per chi vuole discord.freeplaying.it ricordate xdracredits.it ciao 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 Ciao.